O vedi carcrisi, ieri ti evitato uffici! Forse tutto bro Devo essere sincero, io non sono utopatico No flame, se vuoi mandarmi un millino magari stasera ci facciamo pure start con diviso se ti va Cioè non è che ho problemi gravi di utopatia 500 a testa o 1000 a testa, vediamo, ci giochiamo come cazzo dico io Io non sono utopatico, un po' si Ma non trovo, non grave, non patologico Ci sono stati dei periodi ziocani in cui ho veramente fatto fuori il mio cazzo di colto Io paro un deal bello pesante, ho perso 5.500 euro ieri Ho giocato in maniera malata ragazzi Ok, io non sono utopatico Io collaboro anche con un sito, che è la mente di qua nome, ok? E non è licenza Io sempre, se devo interessare mi raccomando, punto stiamo divoluto nel sito dove sto giocando adesso Se effettate il primo deposito, ovviamente vi iscrivetevi con un nuovo account e effettate il primo deposito Vi danno fino al 500-200 di bonus giocabile Dovete giocare ovviamente, poi ve lo dà scommando pennevabile C'ho un link, ok? Dove dico sempre, qui sto dando 100 euro ieri, ma guardate questo è il link E se volete, volete sempre andare qua Ma non è che ho obbligo nessuno, cioè a me, ho anche pensato che io di mandarla a cagare Perché comunque la fine, so che è una cosa che non si può fare E ho questo sito che mi dà un budget di 500 euro al giorno per giocare Cazzo, ma allora gli influencer sono veramente influencer Riescono a influenzare realmente le persone Assurdo che un bambino di 14 anni stia giocando al crazy time con dei soldi Perché adesso tutti questi ragazzini che dicono, oh mio Dio, devo giocare al crazy time Sono duopatico, sono malato, ci nutro anche sopra Poi voi siete liberissimi da aver giocato pure Io ho perso 1.500, di start, ho vintato, ho detto, vabbè, carico altri 1.000 e mi gioco tutto il profit di ieri Per sicurezza, però, eh, sì, per sicurezza, capito, per di un periodo Secondo me una persona non è così tanto labile mentalmente da fare quello che faccio io solo perché lo faccio io Già mi è successo di giocare diverse volte off stream Io non penso che la gente sia così labile da non poter scegliere e capire da sola che cosa è giusto per se stessa Non vi lamentate del casino, non vi mettete a fare... è diventato il cancro di Twitch, il cancro, tutti fanno il casino A quel punto mi sento di dire che la colpa non è mia ma tua che non sai gestire la tua vita Questo tutto non ha ancora più di tanto, richiama 888 Dubai Ho avuto pure anche un problema vivo, cioè non è che... Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. C'è vero, po-po-po-podcast. C'è vero, po-po-po-podcast. Ma rannichilisce i debè, lei burla rana, rana, rana. C'è vero, po-po-po-podcast. Né tanto me non deve, perché ogni giorno guardo. C'è vero, po-po-po-podcast. C'è vero, po-po-po-podcast. Ma rannichilisce i debè, lei burla rana, rana, rana. C'è vero, po-po-po-podcast. C'è vero, po-po-podcast. C'è vero, po-po-podcast. C'è vero, po-po-podcast. C'è vero, po-podcast. E benvenuti in questa nuova trasmissione. Ciao ragazzi. Grazie mille per i sub, per quelli che hanno scritto PD, tre pubblicità, non è colpa nostra. Noi abbiamo il minimo di pubblicità possibili. All'inizio della live Twitch ne manda diverse. Purtroppo è così. Allora ragazzi. Mi sono spinto il mic, ragazzi. Come? Invece le spegne quelle Gianluca o smette il mio per sbaglio? Scusate. Tutto a posto. Marco, come stai? Tutto bene, tutto bene. Siamo belli carichi. Carichissimi, carichissimi, perché il nostro amico Marza… È molto medievale, ottocentesco anzi. Era la tua tenuta, no? Un cappello ottocentesco. Quella, era la tua tenuta scozzese. Da proprio, non sembra, però vabbè dai. L'hai un po', diciamo che l'hai arredata così. Ti sei ispirato a Barry Lyndon? Assolutamente, sì. Ok, lo spile era quello. Grazie ragazzoni. Chitarra Podcast col K, è bellissimo, chitarra. Ok, allora ragazzi, cosa è successo? Il buon Marza si è un po' inferocito. L'ho visto parecchio arrabbiato e ci ha tirato in ballo. Quindi, top content per noi. Prima però, anche per contestualizzare questo mio viaggio nel tempo, Social Boom mi dà dello snob. Incredibile. Ascoltiamo un po', sono curioso. Che, sai, non ho mai ricevuto questa definizione in vita mia. Snob mi manca, devo dire. Sì, cioè, snob. Però adesso posso mettermi la pecetta. Non so, magari siete d'accordo in chat. Vero? Dite, non lo so. Non mi sono mai interrogato su questo. Però non credo, boh. È fattuale, ok. Salve. La bandiera del Portogallo è stata adottata al 30 giugno. Il cazzo è partito. La bandiera del Portogallo è stata adottata. Assolutamente no. Eh, Lucia, se lo dici tu, allora è verità. Prego, dottore, venga, venga. E qui abbiamo bisogno di un supporto. Sempre. Accendi il mic. Io, come ho sentito che si parlava di Marza, ho proprio rallentato la mia camminata. Bella, sì. Proprio, sai, quei due, tre minuti proprio, capito, che dici, ah, arrivo proprio con quel magone. Però sta bello un ferocito, eh. Sì. Quindi secondo me sarà divertente. Sì. Sta bello un cattivito, sì. No, regà. Ragazzi, io ho questo al polso che monitora il mio sonno, quindi non si sfugge. È tutto monitorato. Cioè, io non è che posso dire me so svegliato alle undici. Oppure... Attenzione, eh. Oppure me so svegliato che ne so... Qua. Sta scritto tutto! Ok. Tutto! Grazie Italo Persiano. Guarda che bel sonno, sì. Guarda che bel sonno. Guarda che mappare scritto. Facciamolo vedere, che è importante. Grazie, Nerda. Buono! Come i voti a scuola. Buono! All'elementare, buono. Però non mi piaceva buono. Il punteggio è maggiore rispetto al 73 degli utenti. Tieni duro. Cioè, il 73... Durata del sonno, 7 ore e 4 minuti. Cioè, il 73% degli utenti che utilizzano quest'app... Dormono meno di me. Dormono meno o peggio di te. Anzi, peggio di me. Beh, top record, devo dire. Vedi? E mi sono svegliato esattamente, come ci mostrano qua i dati. Ho dormito dalle 7 e 26 di mattina... Ok. Alle 2 e mezza. Beh. Preciso. 7 ore. Ce sta. Orario è un po' discutibile, qualcuno che va a letta alle 7 e mezza di mattina. Però le mie 7 ore me le faccio comunque. Non è che uno se lamenta. Ma che bella gente! E che buon vino! Non posso posare questo? Lì all'angolo dietro quella porta. Grazie. Alla sua sinistra. Lo studio è là a sinistra, vada, che la stanno aspettando. Di là. Perfetto. Scusate. Eccomi, sono arrivato ragazzi. Hello! Hello! Closha! E benvenuti in questa nuova trasmissione! That's right, grazie mille. Ragazzi, è successa una cosa gravissima. Marza si è arrabbiato. Si è arrabbato. Anche, spero. Guardandoci. Come si è arrabbiato? Cioè, scusa, ma bella cosa... No, perché per quanto riguarda la decisione di Twitch, non si era così tanto arrabbiato. No, si è arrabbiato con noi. Popo con noi. Sì, con noi. Popo Cerbero. Io, io vorrei dire a Marza che noi non c'entravo niente con Twitch che ha deciso di vietare slot. Beh, vabbè, 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 c'è il senso negamo che ci sono noi di vietare slot, quindi buono. No, non lo so. Su noi, su noi. Vabbè, prima però, social boom, dissa Mr. Marre si autoinvita in una live di Lupus. Vediamo, sono curioso. Farebbe ride. Sì, ok, let's go. Situazione un po' particolare, ecco, è abbastanza da capire. Grazie, Grevezzi. Però vi posso dire una roba, la mia preoccupazione più grande non è tanto il BNB, perché alla fine se c'era da spendere pagava un po' più rispetto agli altri, la prendevamo lo stesso. La mia preoccupazione è, a Roma, dove cazzo esco senza farmi la mare? Cioè, o esco con il brasiliano, e allora sono tranquillo, che in realtà neanche tanto perché a brasiliano mi hanno fatto un occhio nero l'ultima volta. Dov'è che esco a Roma senza farmi la mare, raga? E poi social boom sta un po' inferocito. Tra l'altro, a proposito di Ferocia, stamattina mi ha taggato Will Wush nelle storie, ha ricondiviso il pezzetto della nostra reaction a Feroci. E stiamo organizzando un crossover. Che bello. Feroci Podcast Cerbero Podcast. Cerbero Feroce. Tanto noi a Milano andiamo per il Games Week, quindi possiamo fare noi da loro e poi loro verranno a fare... E poi andiamo al Games Week. E poi sì, andiamo al Gay Week. Alla Gay Week. Bellissimo. Va bene. Alla Feroci Week. Un programma completo. Sì, sì, sì. Dunque, per rispondere a social boom, Roma è tra... Cioè, nel senso, non penso che lui sia un così personaggio di status internazionale, capisci, no? Che va a Roma con il rischio di essere accoltellato a ogni angolo. Cioè, penso che può pure girare tranquillo a social boom. Purtroppo, però, ha una pessima esperienza. Tranne nel quartiere del Cerbero Podcast. Quello è il nostro turf. Usa la mappa tipo GTA San Andreas, c'è il colore, non lo so, il nostro colore. Però lui ha già un'esperienza del genere, eh? Perché? Eh, la roba di via. Stava a Roma. Ah, vabbè. Vabbè, lì, però... Non era per le vie di Roma. No, no. Era proprio nelle case borghese. Sì, le vie del corso. Vabbè, se lui si fa questo problema, se lo deve fare dovunque esce, cioè non te lo puoi fare a Roma. Cioè, dal momento che tu lo fai in testa tua, tu lo ti fa ovunque. Ah, ma poi esci con noi, Fra, tranquillo. Che voce ha doppio, un raffreddatissimo. Poi diciamo che Twitch... Ma tutti, io pure. Io pure un po'. Twitch è molto meno famoso a Roma. Cioè, io a Milano ho notato che è molto più seguito e più conosciuto in generale chiunque fa Twitch, qui a Roma un po' di meno. Cioè, a Milano... Forse perché Roma, essendo più grande, più dispersiva, invece Milano è più concentrata. Eh, magari è quello. E lavorano anche di più con il web. Questa cosa è incredibile. Però molti lavori sono già anche in quell'ottica, sia smart working, lavori tradizionali, che lavori legati al digital. Tra l'altro noi il network che abbiamo, lo abbiamo ottenuto proprio durante un evento a Milano, entrambe le proposte che ci arrivarono per i network, quindi a Roma non si muove in cazzo. Vabbè, comunque. Non ci posso uscire. A San Lorenzo non ci posso uscire. Da che esco? Ma chi te conosce a San Lorenzo? No, guarda. A San Lorenzo... A San Lorenzo... Un po', guarda... Potrebbe rischiarsi... Grazie a un minimo. A essere realistici, no? Potrebbe. Potrebbe, potrebbe. Vabbè, allora. Marco, può. Per esperienza, veramente, solo raccontando la realtà, ogni volta che andiamo a San Lorenzo si crea un po' un gruppetto, un fermento, no? Perché ci stanno pischelletti dell'età, proprio target, che segue Twitch. Per esperienza posso dire che lì lo riconoscerebbero. Al caso nostro si inchinano, al caso suo può essere una bottiata. A noi non c'è mai successo niente. Cioè, io posso dire questo. Cioè, a noi non c'è mai successo niente. Vabbè, tanto funziona così. Cioè, la propria esperienza diventa dato. Eh no. C'è l'insegnato dei zapper. È proprio quello che vuole evitare di fare. Io ho dato la mia esperienza. È un dato. I tipi che hanno cantato la canzone del Cerbero a San Lorenzo, tutti allegri, sarebbero aggressivi addirittura data una bottiata. No, ma io infatti ho detto che verrebbe spottato. in tre secondi. Ah, ok. Poi Gianluca ha le sue idee. Ha fattiato il titolo del cazzo. Ciao, bro. Primo messaggio per te. No, il titolo, senti credino con la pizza, però che botti io qua. Grazie, Froze. Secondo me il titolo è figo, invece. Marza ci attacca pesantemente. Due punti aperte le virgolette. Non dovete parlare di me. Virgola, vi trancio le gambe, vi use le virgolette e punto. Ci trancia le gambe. Sì, sì, ma adesso lo vediamo. Vediamo sta cazzatina. Stavo aspettando i fan di Marzone. Magari me le trancia. Perché già durante il canale non ho scritto Marza ha ragione, senza neanche aver ascoltato nulla. Ma ora ci metterei la firma se mi tranciassi le gambe. Dice che l'assicurazione a sdrubalini paga? No, ma che assicurazione a sdrubalini paga? Ma come no? C'è assicurazione a sdrubalini? Ma che no? C'è assicurazione a sdrubalini? C'è assicurazione sul lavoro, sì. Ma fantastica. Però non sei dipendente, quindi mi dispiace. Eh no, ce l'hai. No, ma io... Cioè, diciamo che è disponibile per i dipendenti. Poi che non ci siano dipendenti, è un'altra questione. Lei era qui come un amico che veniva a salutarci. Eh no, partita io, vuoi fare i cazzi tu, ah. Comunque, no, stavo a dire il fatto che se ci aggredisse e ci tranciassi le gambe, insomma. Marco è tipo il donna simiento, capito? È la figura che abbiamo messo. Che però ci... Secondo me, cioè, dato che non sta proprio nei radar al 100%, è un vantaggio. No, è un vantaggio pure per noi, possiamo incaricarlo di fare cose, capisci? È il prestanome. Capito? Sì, sì. Ma anche per vendere tutte cose, no? Se ne curerà Marco Chitano personalmente. Te leghiamo, te leghiamo. Vabbè, finiamo sta cazzare. Ma che non ho mai accettato quello. Come no, ma quelle magliette qua, faccia tua, tutte rosse, che stanno stampate del Lazio. C'è stato uno scatolone pieno, sì. Proprio... I diari pure a te, ma tutto qua. I diari, sì, sì. Ma andiamo a... Smemorato, abbiamo fatto il diario smemorato. Smemorato. Una cosa riflessa dentro... Eh, devo invitare tra stevere, ce l'ho arrivato anch'io. Ma chi ti si incula a Roma? Bro, l'ultima volta mi hanno soltanto preso, portato in una casa con un pugile e ha abusato facendomi immergere in piscina. Si, ma poteva succedere anche a Padova, nel senso, perché quella persona ti conosceva, cioè voleva fare quella cosa lì, non era proprio Roma. Sì, l'ha invitata a casa. Eh, poteva essere di qualsiasi città. Non lo so chi mi abusa a Roma, non lo so, è... Con Mr. Marra. Eh, ma Mr. Marra da quando guadagna 2000 euro al mese fa lo snob, purtroppo. Non so se gli scrivo per uscire tutti insieme. Ma molto di più. Ma infatti c'è... Ma infatti io sono rimasto un po' sorpreso. Sono snob, secondo voi? 2000 euro al mese staresti un po' eraccio. Cioè, snob che significa? Snob significa che non fai entrare chiunque nella tua vita? Cioè, allora siamo quasi tutti snob allora. Tipo quelli con la puzza sotto al naso, che non parlano con quelli che considerano inferiori. Sì. Sì? Come sì? Beh, può essere, io non lo so. Non mi voglio autovalutare. No, no. Però me l'hanno mai detto fino ad oggi, quindi è nuova come cosa. No, 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 no. Secondo me non sei snob. Cioè, è lui che ovviamente, cioè, l'ho letta più così. Cioè, social boom si vuole insinuare. E tu giustamente che dici, cioè, come risponderei io al posto tuo? Io ho una vita, zi. Non è che devo stare per forza a rispondere al mondo. Però non è mai successo nel suo caso, eh? Eh, non l'hai mai costato. Ah, non lo so poi che rapporto c'hai con lui, eh? Mai costato. No. No, l'ho pure invitato ai Boscar. Che poi di solito il contatto... L'abbiamo anche invitato al Cerberò Party. Che poi di solito... No, da ti... Una cosa buona verso Davide, che poi di solito il contatto ce l'ho io con Ratto, no? Sì, sì. Eh, però tu l'hai invitato ai Boscar, non io. Fatti, bo... Vabbè, comunque, curioso. Posso sentire Damiano Alberti, quelli ancora un po' emergenti, che ancora ci cagano, se no... Gli altri non ci sono, secondo me. Ma non ci sono affa' che. È entrato nella sindrome e la community mi ha abbandonato. Cioè, sarà tipo la cinquantesima volta che vedo un personaggio entrare in questi discorsi qua. E non è mai una cosa positiva per lui, alla fine. Sì, noi siamo stati in grado di far sedere accanto a noi il pippega, a meno snotere così. Ma sì. Non lo so. Cioè, quello magari ha visto il pippega, perché io no? Voglio venire pure io al lupus, poi. Io non so. Perché non sa la vera storia. A me non me ne frega un cazzo. Fosse per me potrebbe venire al lupus tranquillamente, social boom. Ma sì. Ma cazzo me ne frega, cioè... Ma si è andati pure a casa sua. Cioè, il fatto... Cioè, ammettere che ci sia un problema sarebbe anche ammettere che quello che fa questa persona in qualche modo influisce la mia vita. Non mi interessa. Capito? Cioè, vieni al lupus. Cioè, a me social boom non mi ha mai fatto niente. Personalmente. Personalmente a nessuno di voi. Siamo anche stati a casa sua, abbiamo fatto la live insieme. Cioè, c'ho qualche ricordo anche con lui. No, poi che non ci piacciono molte cose che fa o che vada criticato asparamente quando fa delle cappellate gigantesche. Quello è un discorso a parte. Ma quello sì, però ho capito, ho sempre a fare questa cosa della caccia alle streghe, no? No, no, ma nel senso che... Cioè, non è che se uno viene al lupus la poi diventa incriticabile, no? Esatto. Cioè, uno può anche venire al lupus a fare una cazzo di partire al lupus e poi il giorno dopo fa una cazzata e no, blastamo. Non è... Non significa nulla. Né che una persona non viene mai invitata, né che viene invitata una volta. Né che... Allora, se viene invitata una volta, pace fatta per sempre, amici forever. Ma guarda, sto discorso particolare me lo fece Ale della Giusta. Le ricordate? Ai Boscar. E da lì nacque l'ufficio reclami poi. Eh, perché praticamente... Vabbè, l'avamo raccontato. Stavamo al MOBA la sera prima della prima serata dei Boscar, quindi giovedì sera. Mi ricordo. Ma era sabato, domenico o venerdì e sabato? Forse venerdì e sabato. Era il giorno prima delle dirette. Eh, era il giorno prima della prima serata. Sì, mi ricordo che ti ha catturato per un'ora e mezza. No, noi stavamo lì ad organizzare. A un certo punto in bocca. Io non ci ho scambiato mezza parole. Sì, un terzetto d'eccezione. Vagnato. Ale della Giusta. Chi era il terzo? Eh, bella domanda. Eh, non me lo ricordo. Vagnato però mi ha fatto tagliare la città. Però già lo conoscevamo, sto terzo. C'era un terzo. C'era un terzo che conoscevamo. È importante. Jody. Ah, Jody. Bravo, 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 Jody. C'era Jody. È vero. Che poi tutto è nato perché io avevo sentito Jody. Cioè, loro tre sono venuti là perché io volevo vedere Jody. Cioè, tra questi raccordi, beccassi. Mi fa, guarda, sto anche con Bagnato e con Ale della Giusta. Avevo detto, dai. Io non ho visto Gido. Si fa motorizzate, no? Ma che non hai visto? Era una cosa... Era un ologramma. Gido, Gido. Ah, Gido. Ok, Gido, sì. Eh, vabbè, sì. Poi cominciamo a chiacchierare con Gido e con Bagnato. E Ale della Giusta stava un po' lì imbarazzato. A un certo punto mi viene sotto. E' proprio una bestia. Mi viene sotto, il fatto che me vuoi menà. Mi fa, no, no. E che sono un po' in imbarazzo. Mi fa, che è successo? Che so. Mi fa, eh, no. Perché comunque mi avete criticato per quella cosa del barbone. Insomma, siamo qui a ridere e scherzare. Vabbè, ma non è che ti odio. Cioè, nel senso, abbiamo criticato una brutta uscita. Fine. Esatto. E poi non si sa come è andata avanti la conversazione, non me lo ricordo. Se dico solo che Gianluca stava accanto a me, si è dileguato, ha fatto proprio... Tutti sono rimasto da solo. No, aspetta. Sono rimasto da solo. Però io ormai che non riesco... Ora, io ormai che sono proprio l'emblema della franchezza, io se... E ti ricordi bene, quando mi sono alzato l'ho proprio detto che me ne andavo per quel motivo là. Ti hai detto, per qualsiasi cosa c'è l'ufficio reclami, pacca sulla spalla. Io ho proprio detto, benissimo, a intraprendere questa conversazione, continuare con Davide, perché a me non me ne frega un cazzo, io me ne vado a bere, però, ho dissi una cosa del genere. Esatto. Io mi ricordo solo che ho osservato questa scena da lontano e sono un testimone, semplicemente. E poi, tipo, due giorni dopo, Aladino, stessa cosa, ufficio reclami, sempre così. Rospo pure. Ah, ma questo non invito! Così, tipo, un po' alla sesso. Non invito, tipo... Un po' alla Giuseppe Testa Grossa. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Sono di Roma, San Lorenzo, pieno di tossici di notte. Ma San Lorenzo mi piace, il problema è che termini peggio che mai, eh? Dove cazzo esco? Allora, dentro al Colosseo vado? Ma non vai a termini la sera per uscire, comunque, è un non problema questo. Perché loro magari vanno a una stazione centrale. Perché termine è un non luogo. Ah, è un luogo di passaggio. Esatto. Esattamente, come ogni stazione. Passi a piatta e a gurtellare. E quello è il problema. Esci con Ergiocherone, non credo che Ergiocherone esca per Roma. Ergiocherone. Ergiocherone. Dice, non credo che Ergiocherone esca per Roma. No, lui per Napoli, Milano. Sì. Vieni a Torbella Monaca, non esco a Torbella Monaca, scrivi al Cicalone. Non scriverò al Cicalone, ma perché... Cosa gli devo scrivere al Cicalone, bro? Scrivi al Cicalone. Vabbè, fa da Boticard, che ne so, nei quartieri pericolosi. Consigliare un quartiere dove abitare senza essere pullappato. Che gli scrivi? Mara ti ha invitato a giocare al Lupus. Beh, però c'è Andrei. Vabbè che sarebbe una serata divertente, almeno. Vieni. Ma quando mai l'hai invitato? Mai. Però vieni. Palese Lupo, infatti, regà. Cioè, votamolo. È infatti. Palese Lupo indemoniato. Sta fegando il ruolo. Esatto. Però vieni, dai, mo, cazzata a parte. Dai, dici quando vieni a Roma. Lo facciamo sempre mercoledì sera, perché è il giorno in cui solitamente non abbiamo argomenti. Quindi, mercoledì alle 21. Ora, secondo me, Gianluca ha la parola finale in quanto suo format. Ah, Gianluca organizza, però. Infatti, io sto tacendo. Eh. Appunto perché sto pensando quello. Dico, vedremo. Ok, vabbè. Contatta Gianluca, tanto ce l'hai. È il più difficile da convincere, Gianluca. Ok, ok. No, se no, sento Flame, che è l'unico non-snob che ci si può ancora uscire. Ma alla fine c'ha anche ragione, tiene una figlia, c'ha la moglie. Dovrei anch'io fare moglie e figli, così la smetto di fare il credito in giro. Esci con Mattia Faraoni, non so chi sia. Vai con Franchino. Stai giovane di VR. Cosa? Che giovane, ma sta sempre in giro. Sta sempre live a casa. Se sta a bevere acqua panna, sì, sì. Ma non c'è niente di male. Ma probabilmente sarà... A me, poi non lo so, a me mi sembra, ho ipotizzato, me lo dico perché ha detto questa cosa, tipo la classica bevuta d'acqua da hangover. Mi sembrava quello. Mi sembrava tra canni tutta acqua. Oggo, 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 oggo. Sì, sì, non lo so, magari sto a flashare. Oddio, lo vedo spesso bere, magari è abitudine sana, tra l'altro. Ma non mi sembra uno che si sfonda comunque. Ah, spesso bere acqua. Acqua, acqua. Ah, ok. No, no, che mi ha ricordato di poco. Non credo sia un addicted lui, particolarmente. Davide, tu non lo sai com'è, secondo me. Infatti ho detto non credo. No, vabbè, aspetta. No, ci ho rivisto proprio il gesto. Ho incontrato molte... Ah, ma dici, non sai com'è l'hangover? Esatto. Ah, no, no, ok, sì, sì, sì. Però ti dico, lo vedo spesso bere con ste bottiglie improbabili in live, quindi magari in abitudine, non lo so. Comunque, Marra, ma perché non esci con Social Boom a fare serate brave? Ah, guarda, ti dico una cosa. L'ultima volta, prima di Boscar, in cui ho incontrato Social Boom, è andata così. Esco con Alex, due amiche di Alex a Milano, e Isalarana. Vabbè, la sua ex, lo sappiamo tutti, ok. Che, se non sbaglio, in quei giorni ha fatto l'unghia ad Alex, o una sua amica, non mi ricordo. Comunque, loro si conoscevano già da prima della storia di Social Boom, eccetera. Cioè, nel senso che si conoscevano. Che, se non sbaglio, pure Issa è di Pescara, non lo so, non mi ricordo. Comunque, si presenta pure lei. Sì, anche lui è di Pescara. Sì, anche lui. Andavano nella stessa scuola, lui e Alex. Lui e Alex, sì. Ma non hanno una differenza di età? Sì, magari, che ne so, in anni diversi. Però la scuola era la stessa. Ammazza, che coincidenza. Che ne so, lei faceva magari il quinto, lui il primo, il secondo, non lo so. Però è la stessa. E vabbè, quindi arrivano queste tizie, stiamo là, beviamo, tranquilli, chilli. A certo punto, la gente comincia a scrivermi. Oh, guarda che Social Boom, il live, sta in live, IRL a Milano, e sta a didde tutto, così, eccetera. Apro la live e vedo lui che dice, ah, questo pezzo di merda di marra ha preso la mia ex ragazza per portarla al cerbero e farmi sputtanare, così. Stava poi dietro dove stavamo noi. Io vado lì, stava ancora in live, faccio... Io non so nulla di questa storia. Eh, faccio guarda che... È vecchio. Io non devo invitare nessuno, si è presentata questa persona che conoscevo appena di vista, ma non ho intenzione di portarla in live per farle raccontare i vostri cazzi privati. Non l'ho mai fatto. Vabbè, poi non dico come è finita, perché insomma... Ma non... Si è scusato, ha cancellato tutto. No, ma veramente, non ho mai visto così triggerato. Però, beh... Questa è stata la mia interazione, diciamo, nella movita milanese con Social Boom. Fanno tutti i Social Boom col culo dell'Alz, eh? Vabbè. No, ma ha cancellato tutto perché aveva sparato certe puttanate senza... Io mi ricordo che ti eri alterato. Ebbè, porca puttana. Cioè, stava dicendo tutte false... Sì, 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 ma giusto a me. Stavi a Milano... Eh, sì. Fisicamente. Sì, 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 sì. Allora, ragazzi, ci siamo. Grazie 13 mesi. Il delirio di Marza, l'ho chiamata questa clip ricaricata. Non l'elenco sul nostro canale. Sì. Let's go. Ho paura. Eh, fai bene ad averne. Ci sono delle argomentazioni veramente gustose. Greve, eh? Che devo dire. Marza c'è una lingua bella da... Biforcuta, biforcuta, direi, sì. Capito? Quindi stiamo attenti che non vorrei rimanere ferito. Infatti. Vediamo un po'. Sì, sì, no, di inutile. Io non voglio polemiche in sta cazzo dei chat. Vuoi vedere? Vedi? Sennò vatti a vedere Cerbero e poi vieni qua e scriviamo che sto buttato. Ma non mi devono rompere cazzo. Porca troia. Cioè, niente, è il marzone... No, c'è sta pure frene, no, vabbè, c'è sta pure frene, quindi già qua mo so due. Che bello. Eh, allora, se c'è sta pure frene, la situazione diventa ancora più turbida. No, vuol dire che c'è veramente un pool, come posso dire, intellettuale in atto, secondo me. Cioè, qua si arriverà ad una conclusione, secondo me... Sì, 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 lucida. Ma con Frenesi l'asticella effettivamente si alza. Eh, lo potrà aiutare. La soluzione globale, dici. Ma sì, sarà Frenesi che carrierà, secondo me, le decisioni. Ma vediamo. La tecnica del Fattos, però non consapevole che tutto ci avrà una conseguenza. Bravo! Questa è una frase profondissima. Bravo Frenesi! Mamma mia, che soddisfazioni che me stai a dare, Frenesi! Che soddisfazioni che me stai a dare! Troppe soddisfazioni che me stai a dare sto ragazzo, ormai! Ma infatti posso dire una cosa... Come si fa, Frenesi! Ma io ti voglio bene, posso dirlo a qualcuno? Io ti voglio bene, Frenesi! Perché Mars è diventato così, ragazzi? Cosa è successo? Io me lo ricordavo... Hashtag cambiato. Me lo ricordavo, veramente simpatico. Affabile. Vabbè, sì, lo è, ma noi siamo brutti e cattivi, che abbiamo detto delle cose da brutti e cattivi, evidentemente. Allora, non tutti sanno che... Greve. Io feci una live con Mars. Come no? Ma vedo un po' di... In casa vecchia. Ricordo molto bene, era una cosa che avevo organizzato Power. Esatto. Vero? Esatto. Ricordo. E questo è il ricordo che ho di lui, quindi piacevo. Cioè, il ricordo che avevo di lui prima della vicenda Slot, anche perché adesso tirerà in mezzo cose che non abbiamo mai fatto, ma ci arriveremo. Diciamo che c'erano tre cose che addolcivano Mars, secondo me. No, ma era così. Era così. No, secondo me sono sei, Marco. No, ma era così, quasi in tutte le live. Poi, per carità, ognuno ha i suoi momenti. Però me lo ricordo... Guarda che noi... A giudicare quello che vedo, quattro. Ecco. Cattivella, eh. Vabbè, comunque... No, vabbè. Marra, Power, Violet... E... Nicole? Lucy. E Nicole, sì. No, Lucy mi sa che non ha rapporti con Mars. Mi pare che non si conoscevano, quindi parlo di queste quattro persone. Vabbè, infatti, le rarissime volte in cui è uscito fuori il nome di Mars da qui al Cerbero, credo si limitino alle due tier list, dove abbiamo parlato di tutti. E se non erro, poi magari controllate, ne parlamo bene. Di Mars? Eh, perché comunque faceva il suo, era simpatico, eccetera. Comunque questo era il ricordo nella mia mente prima del Mars Evil, dell'Evil Mars a slot. Oh, ma c'hai le pop te, Violet. No, 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 no. Diretto cattivo. Sì, sì, le ho fatte. Violento cattivo, convinto. Vedo che l'argomento della live è molto diverso da ciò che è venuto in mente a me. E vabbè, no, no, sì, scusate. No, no, la rimetto dall'inizio. Oh, ma c'hai le pop te, Violet. No, 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 no. Diretto cattivo. Sì, sì, le ho fatte. Violento cattivo, convinto? Sì, sì, sì. Ah, le pop, le sono le pop, per mio Dio. No, ma non te pare, ti ho chiesto, ma in che senso? Ma c'hai le pop? Le pop fan quella... I fan toots pop. Ah, vabbè, ha fatto... Ma era volontario. Era involontaria. Ah, sì, era una gag involontaria. Era involontaria. Ma simpatico. Partito pure in fischia a voto. Sì, sì. Ma che car... Sì, sì, no, li amo. Sì, sì, ne ho tantissime. Marra, lo sai cos'è? È impassibile. Mi sa che non sentivo bene. Guarda, c'è l'ultimo che mi deve arrivare. Marza Stupendo. Infatti, me ne so accorto dopo. Stavo un po' sciolto. Mi sa che non sentivo un cazzo, perché c'era un deliro. Poi non c'era un po' di cuffia. Ma meno male. Però, vabbè, per dire... Una cosa piaceva. Avevo un bel ricordo, no? Di Marza. Ma sì, ma alla fine è simpatico. Io pure all'evento c'ho... Perché c'è scritta sta cosa a schermo orribile? È il tuo turno? Si basta, è finito il casino. Amor, nome mio, prenditi e ammazzo tutti. Come, scusa? Cosa? Aspetta, risentiamo. Cosa? No, no, forse... Cosa? Forse... Cazzo? No, mi sa che c'è stata interferenza. Non ho capito bene. No, non me ne frega un cazzo. Si basta, è finito il casino. Amor, nome mio, prenditi e ammazzo tutti. Come? Come Marza. Marza, come... Non ho capito Marza. Facciamo una cosa. La riascoltiamo dall'inizio senza interruzione, perché secondo me... È decontestualizzato. Dobbiamo capire i sottotesti. È decontestualizzato. Sì, sì, no, di inutile. Io non voglio polemiche in sta cazzo dei chat. Vuoi vedere? Vedi? Sennò vatti a vedere Cerbero e poi vieni qua e scriviamo che sto buttato. Ma non me devono romper cazzo. Porca troia. C'è niente, è il marzone... Ma c'è il botte? Tecnico del facto. A proposito, sì, perché non l'avevamo sentito prima. In realtà è questo il motivo per cui ho rimandato indietro, no? Poi mi dicono che sto buttato. Per la precisione è imbeddato, però non so quanto tu all'epoca fossi consapevole di questa cosa, ma l'abbiamo parlato mille volte. Alcuni siti di Casinò utilizzavano ed utilizzano tuttora questa pratica. Anche Steak utilizzavi tu. Non è un caso che molti streamer... Grazie, che rubino! Molti streamer avevano 10.000 spettatori, 7.000, 8.000 numeri mai fatti. E tolto il Casinò, non dico che si sono dimezzati, ma ancora meno. Gli spettatori sono diventati un quarto. Non solo perché ovviamente il Casinò era ed è tuttora un trend, non solo perché più ne hai più sali le solite robe, anche perché c'era l'embedding interno al sito. Non è un crimine, però... Lui ha detto una cosa fattuale, cioè non è bottato. E infatti nessuno ha detto. Non sono bot, fino a qua. No, è un'altra cosa. Embedding. Nella sostanza non cambia nulla, però. È una cosa che nessuno ha detto, quindi è un po' un'argomento. No, vabbè... È un'argomentazione fantoccio, però questo penso che l'abbiano capito tutti in chat. Quello sì, diciamo che poi il risultato finale è un po' lo stesso, cioè embeddarsi o bottarsi i viewer per scalare. Per far vedere il canale più grande di quello che è, bla bla bla. Abbiamo già detto mille volte. Sì, sì, sì. La differenza è che non ho mai detto, anche perché non lo penso, che lo faccia lui in prima persona. Ma ripeto, questa colpa, se vogliamo, è da affibbiare ai siti che utilizzano questa pratica per fomentare... Sì, ma non è che il sito l'ho fatto è insaputa. Ah, probabilmente no, però non ho la certezza su questo. Vabbè. Non credo, eh. Se c'è qualche streamer piccolo o medio, non lo so, che magari ha ricevuto delle proposte da parte di siti di Gioco d'Azzato, ci faccia sapere se l'embedding è incluso nel contratto. Semplicemente, perché comunque dovete firmare qualcosa per iniziare una collaborazione. Sicuramente ce lo dirà. Quindi c'è un contratto. No, magari qualcuno che non l'ha fatto, che magari ha potuto indagare, capito? Che ha fatto una mini-inchiesta. Magari. Però non consapevole che tutto ciò era una conseguenza. No, non me ne frega un cazzo, si basta, è finita il casino. Amor, nome mio, lo prendi e ti ammazzo tutti. No, è finita sta storia. Ok, Marco. Ti ammazzo tutti. È strano, perché sennò vi ammazzo tutti, avrebbe dovuto dire. No, perché tu ammazzi... Che si riferisce? Anzi, no, io mi rifiuto di parlare. Perché? È metaforico, no? Beh, a livello grammaticale, vi ammazzo tutti significa che ci uccida a noi. E invece? A livello grammaticale, invece, se io dico a una persona ti ammazzo tutti, sto dicendo a quella persona che ammazzo le persone attorno a te, ma a te te lascio vivo. Ah, ok. A puro livello di analisi logica del periodo. Stampo mafioso. Ti ammazzo tutti. No, questo lo sta dicendo Marco Pitano. Non lo dico, lo dico, proprio il coso di ammazzare tutti quelli intorno a te. Sì, è una tecnica che pure in molti film, il crime. Sì, sì. C'è molta letteratura cinematografica riguardo. Frase fuori contesto, aspetta, aspetta. Ma come fuori contesto? Frase fuori contesto, dovete ascoltare tutto il video per capire. Sono sette minuti filati, stai tranquillo. Questa frase è nata da 28 secondi di discorso e c'è una cosa che la lega a un contesto prima e c'è anche un contesto dopo questa frase qui. Quindi io penso che sia ingiustificabile questa cosa che ha detto su di noi. Regà, non scherzate con queste stronzate. Perché un conto è che noi abbiamo criticato una cosa che non andava bene per quanto riguarda i nostri pensieri. E comunque mi pare che eravate tutti un po' d'accordo. Tra l'altro Twitch ha preso la decisione. Andare a sfociare in questo. Molto, lasciate il fatto che giochi di parole, di qua, dell'ape, non di cose grevi. Ma è grevissimo. È grevissimo, anzi è gravissimo. Sono d'accordo poi il fatto che noi ci ridiamo sopra, come i tempi con Blur. Cerchiamo di alleggerire, ma è greve. Sì, effettivamente sì. L'avessimo fatto noi, adesso avremmo veramente i branchi di commentatori. Cioè io veramente dei freebooting sotto casa, no? Stiamo sempre a controllare, ma anche perché un po' mi diverte a capire come dire le cose. Perché anche quello è importante. Ho imparato a 29 anni che il modo influisce, ovviamente. A volte me ne dimentico. Ed è assurdo vedere un mio collega fare dire queste cose in una live sua, tranquillo, senza ripercussioni. Per me questo è scandaloso. Mi indigna. E per me si dovrebbe vergognare solo di aver concepito quel pensiero, ancora di più per averlo detto. Sono d'accordo, rispondo anche a qualche contestazione, perché abbiamo anche la contestazione. Evviva, grazie opinionista. Siete stati tossici, soprattutto con frene. Lui è esagerato, però anche voi lanciate frecciatine inutili. Allora, la frecciatina è una cosa, la tossicità è un'altra. Tossico forse è il tuo cervello in questo momento. Non credo proprio. E anzi, rispetto alla modalità comunicativa di questi ragazzi, ci siamo espressi nel migliore dei modi. Abbiamo ricevuto auguri di morte, magari vi investe un Bartolini, siete dei cancri. In questo caso vi ammazzano famiglie dalla stessa cricca. Dopo continuerà, vi taglio le gambe, cose di questo tipo. Ma vi ricordate pure Fuzz con Sdrumox? È sempre la stessa cricca di intoccabili. Avete rotto il cazzo. Ma la cosa divertente, sai qual è? Che loro come gruppo, ma poi parleremo anche singolarmente, perché ognuno ha le proprie responsabilità. Ad esempio, per quanto mi riguarda, gli auguri di morte di Blur, dopo un po' li ho presi come una battuta così, del cazzo, black humor. Perché, come hai detto tu, cambiava un po' il tono, il contesto, era più uno scherzo. Lo facciamo anche un po' a vicenda. Nel caso di Marza, non mi sembra una battuta, mi sembra veramente incazzato. Quindi, appunto, facciamo le giuste distinzioni. Frene, secondo me, in realtà è un tranquillone, poi ogni tanto esagira pure lui. E aggiungo che anche la loro ironia, il loro black humor, il loro modo di scherzare e di stare live, è esattamente quello che state, in questo momento, è quello con cui state definendo la nostra modalità comunicativa adesso. esempio recentissimo, Penguin. Io pure ogni tanto l'ho preso per il culo al Penguin, no? Però non ho mai detto, mi sembra che abbia la SLA, per dire, no? A me, non me ne frega un cazzo, e vi dico anche questa cosa, ci ho pure parlato col Penguin di recente, perché mi ha detto, ma che è successo? Io ho fatto, no, guarda, io non apprezzo molto la tua figura, sinceramente. Non ho mai detto sei un truffatore, eccetera, però mi cringia molto il personaggio che ti sei creato per questa motivazione, bla, 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 eccetera, e poi mi ha detto anche, ah, ma tu conosci Frenesi, Blur e questi qua, perché, insomma, mi insultano ogni giorno, fanno così, secondo te perché? E io, anzi, ho pure detto, guarda, so che loro sono un po' giocherelloni, fanno così con tutti, spesso son meme, soprattutto per quanto riguarda Blur e Frenesi. Ma si capisce. Quindi non te la prende a male, no? Però, questo è per dire che il fan di Marza che viene qui e scrive sei, siete tossici e queste conseguenze ve le meritate, non lo comprendo, cioè giochiamo sullo stesso campo da gioco o no? Anche nello stesso non abbiamo lo stesso approccio comunicativo, siamo molto più morbidi e, come diceva Simone, pesiamo le parole. Poi, che a me scivoli addosso questa minaccia di Marza va benissimo e sono disposto a stare in questo campo, il gioco è anche questo, però da qui a dire, ah, vabbè, c'ha ragione lui, lo siete meritati, ce ne passa un po'. No, questa roba fa schifo, ovviamente, e fa ancora più schifo quello che diceva Simo, per il fatto che loro si sentano comunque, e qua invece parla al plurale perché vale per tutti, si sentano intoccabili. Perché lo sono. È proprio la leggerezza, cioè, non è che dicevo fai una sbroccata, dici una cosa di cui dipenti, cioè, è sempre così. Questa storia, tu il casino, puoi di quello che cazzo vuoi, mo' da me che vuoi? Signori, mi dispiace... Allora, tesoro, come dicevo prima, per quello ho fatto il preambolo fadiano, non abbiamo mai parlato di te, caro Marza, se non nelle tier list dove parliamo di tutti gli streamer e, sorprendentemente, ne parlammo anche bene, o benino comunque. Mai fatta una live su Marza, perché non c'era nulla da criticare dal nostro punto di vista. Quindi, quello che sta dicendo, mo' non voglio più senti un cazzo, perché potevo capire Slot, quindi era legittima la nostra critica, no? E di che cazzo altro abbiamo parlato? Nulla. Appunto, potevo capire Slot, quindi, pur avendo capito, l'unico argomento riferito a te, di cui abbiamo parlato, comunque ci minacci. Genio, zi. Geniale. È assurda sta cosa. Cioè, io quando ho visto sto contenuto, no? Questa spezzone di live, non riuscivo a capire, perché si sta incazzando su una cosa che non abbiamo mai fatto, ma soprattutto, legittima comunque, Marza. Cioè, se tu domani fai una cosa e io voglio parlare, posso. Poi tu puoi agire di conseguenza. Mi puoi querelare, mi puoi rispondere, mi puoi insultare, mi puoi prendere per il culo. Ognuno poi è responsabile di ciò che fa. La cosa divertente è che nella fattispecie di cui parli non sussiste il oltre al casino. Perché abbiamo parlato solo del tuo personaggio, della tua figura legata al casino. Adesso ne stiamo parlando perché ci stai augurando la morte, ci stai insultando, sempre comunque relativo all'ambito della discussione che si è creata sul casino. Guarda, per onestà intellettuale, mi ricordo che a volte mi sono riferito a lui dicendo gioco d'azzardo e non slot. Attenzione, eh. Potrebbe cambiare. No, in realtà non cambia un cazzo. No, vabbè. Era solo per dire. La categoria gambling. Sì, sì, sì. No, no, non cambia nulla. È sempre quello, diciamo, il motivo. Ripeto, anche perché, onestamente, non avevo motivo. Anzi, ho sempre apprezzato. Mi sembrava divertente. Un ragazzo tranquillo. Io ho sempre solo espresso il mio schifo per quanto riguarda questo tipo di contenuto. L'ho sempre trovato immorale, l'ho spiegato in tutte le salse del mondo. Per quanto riguarda il pubblico che lo streamer sa di avere, tutte le conseguenze che non puoi ignorare potrebbero accadere. Solo questo. Quindi, io sto con la coscienza a posto, non sento di essere stato tossico con nessuno per quanto riguarda questo argomento, né con frenesi, cioè, né con Blur, né con nessuno. Quindi, non penso di meritare, né io, né i miei colleghi, questo trattamento e queste parole nella stessa piattaforma dove streamiamo noi senza ricevere la minima conseguenza. Se lui può dire questa cosa, allora la potrei poter dire anche io. Ma non è così. Ma io neanche la voglio dire, dico proprio a concetto. È un'ingiustizia. Leggo un commento di Robo. Sentendo bene l'inizio del video, credo che Marza si riferisce a chi gli dice che si botta le live. Allora, si riferisce a un commento scritto in chat, commento rompicazzo come ce n'abbiamo 700 qui in questo momento e lui risponde se non ti piace, vattene a fanculo e vattene a vedere Cerbero e poi si attacca parlando del Cerbero, cioè di noi, eccoci, e infatti frenesi dice ah vedi stai sputando fatti, attento che in modo succederà qualcosa questa live, no? Perché noi giustamente rispondiamo, siamo un po' rompicoglioni. Quindi ragazzi, il contesto è questo, commento in chat di una persona che lui mette nella categoria fan del Cerbero, noi non lo sappiamo, facciamo finta che, come direbbe Biglino, sia vero, ma questo non c'entra nulla con quello che sta dicendo, altrimenti io dovrei prendere i 70 commenti che ho letto dall'inizio della live, portarli a postale e incarcerare Marza. Non funziona così, no? Lo dobbiamo ripetere ogni volta? Il commento è stato la miccia, poi ha fatto tutto da solo e la frase che dice è a 28 secondi da quando ha iniziato a parlare. Infatti ce l'aveva già dentro. Ma sì, gli esce fuori così immediatamente, ma che cazzo di video abbiamo guardato, regà. Ma tanto poi continuo, ragazzi, quindi siamo solo a 30 secondi, eh? Io... Infatti Andrea... Però ma ha vinto il maestro 8 a 7. E pure Blur. No, la cosa che mi farei da me è che io invece, dalla mia parte, dico un cazzo a nessuno, eh? Cioè non dico niente a nessuno, metto mai il nome in bocca di nessuno, non me ne sbatte una sega, mi sono fatto i cazzi miei per una vita, mo posso capire la roba del casino che è stata borderline, ma non rompe il cazzo, mo la loro giustizia, se così la vuoi chiamare, è stata avuta, mo non voglio sentire... È stata una cosa di proprio coincidentale, il fatto che Twitch si sia attivata, anzi, ovviamente, dato che era diventato un problema a livello mondiale, uno se lo poteva anche aspettare, in tempi così celeri non l'avrei mai immaginato. Per il resto, la tua argomentazione che molte persone usano, eh ma io non rompo il cazzo a nessuno, non funziona così nel mondo, cioè zì, ma magari... Stream una live privata, che non la vede nessuno, nessuno avrà diritto di criticarla, diritto di dire, ma che sto a vedere, mi piace, non mi piace, stai a fare contenuti nel mondo, zì, mondo visione, anche noi in questo momento, ed è criticabile, zì, sveglia te. Non c'è Portogallo che tenga, capito? Spiega per favore. Poi andrà pure in Alaska, sì, la reaction te la becchi sempre, poi andrà pure su Marte. Spiega per favore, perché sono intoccabili per completezza. Vabbè, me l'ha detto Simone prima. E non sto dicendo che, è dato per scontato, che uno debba parlare male, ma il parlare di quello che succede, è sano. Cioè, vabbè, basta, lo sapete. Soprattutto non esiste la stupidissima equazione, io non parlo di nessuno, quindi nessuno deve parlare, di me. Non funziona proprio così. Purtroppo no. Twitch permette questi contenuti, in Italia credo esista una legge che vede la pubblicità, ma questo è un altro discorso. Adesso, in realtà, ci siamo anche spostati dal seminato gambling su Twitch, perché, per sua stessa ammissione, in questo momento, ha detto, quello era criticabile, quello era borderline, quello vabbè, e quello abbiamo detto. Capito? E quella è la cosa assurda. Quindi ci ha dato ragione. Ci ha dato ragione. Lui, Twitch, più di così, il mondo, il mondo, avvisate tutti. Chi dice delle bugie? Siamo la più grande potenza mediatica del web. Fiatare niente, niente, è stata avuta. Mo' non voglio sentire fiatare niente. Ma che cazzo sei? Ma chi cazzo sei? Ma guarda che... È arrivato... È arrivato Voldemort. Nessuno gli ha detto più un cazzo una volta che è stata fatta quella misura da parte di Twitch. Gli abbiamo solo risposto quella volta che era sempre riferito a noi, no? Ma che fosse... Cioè io parlo in tutte le live di Marza se ritengo di avere qualcosa da dire. Sì, sì, sì. Potenzialmente sì, ma quello che è successo è che abbiamo smesso di parlarne. Ma infatti, quello che ho detto prima, prima della vicenda gambling non è mai uscito il nome di Marza. No. Quindi, cioè lui sta facendo passare questa cosa come se... Come un accanimento. Fosse un abitué del nostro canale, ma in realtà no. Cioè, proprio no. Ma anche perché non avevo nulla da dire, nulla di negativo, neanche dei positivi. No, dei positivi l'ho detto nelle tier list. Eh, che mo' so cazzi mia quello che faccio e voglio fare. Ma quale universo? Mo' so cazzi mia? Da quando? Cioè nel senso, mo' gioco più al casino quindi posso fare tutto. Voi ho dato la concessione. Vabbè, questa va la concessione, il resto so cazzi mia. ma lui fa passare il messaggio sbagliato che noi stiamo là con gli occhi puntati, con i riflettori ad aspettare che qualcuno faccia qualcosa perché così siamo là ah, siamo famelici, no? Fa passare un messaggio sbagliato, un'immagine erronea del cerbero, secondo me. Cioè, dire, mo' mi faccio i cazzi mia, ma ovvio, cioè, chiunque se fa i cazzi proprio, anche io mi faccio i cazzi mia. Però nel momento in cui vado a fare una trasmissione live, lo so che quello che dico potrebbe essere commentato, criticato, è normale. Significa fare contenuti su internet. tipo questo commento. Però neanche passi il messaggio che noi stiamo là ad aspettare che qualcuno faccia qualcosa e non ce ne frega un cazzo di quello che fai, Marza. Non ce ne frega un cazzo di te. Rispondo, visto che parliamo di critiche. Jimmy Hopkins mi dice non rigirarla come vuoi, Marra. Siete stati molto sleali con Frene. Ma di che? Perché abbiamo detto non è possibile. Non ho mai citato Marza o Blur da qui a dire che non avete mai usato tecnico mentivo e scorretto e sbagliato. Come ho detto prima lui sicuramente ha sbagliato nel video però qui... Allora, Frenezi in realtà fece una live su noi se non sbaglio dopo un rientro in seguito al ban eccetera dove mistificò completamente le cose. C'è ancora la nostra live tra l'altro e noi abbiamo semplicemente precisato delle cose false testimoniate in quella live che aveva detto non vedo scorrettezza alcuna. Poi adesso non è che voglio passare come santo però sinceramente mi sembra un po' strano cioè trovo che il rumore di un'unghia sulla lavagna strida meno rispetto a certi commenti che vedo in relazione all'approccio che abbiamo noi e all'approccio che hanno questi ragazzi. Cioè strano nel senso io mi immagino Davide Marra che dice una cosa del genere a Marza. Cioè non ti azzardare mai più a parlare del Cerbero altrimenti ti strappo le gambe a morsi seriamente. Cioè veramente io riceverei la SWAT a casa. Mi rompono al cuore il cazzo per cose che fa Alex di tre anni fa sotto i commetti YouTube quindi vuol dire che devono proprio impegnare figuratevi per una roba del genere. Questo solo dico poi ragazzi per carità magari alle volte abbiamo esagerato senza magari spesso abbiamo esagerato pure noi però nel merito di ciò che stiamo guardando adesso cosa c'è da discutere? Una persona che sta dicendo non dovete parlare di me mo il casino andava bene prima no però ok adesso sì perché Twitch l'ha detto però sul resto un mega del cazzo se no vi taglio le gambe se no vi ammazzo tutti proprio questo non ce ne frega un cazzo del resto se non fa niente di utile da commentare se lo fa siamo qui e lo commenteremo ma non è che stiamo là a aspettare ce ne frega un cazzo proprio quella è la cosa capito? ma soprattutto è assurdo il principio eh ci va a passare in un modo che non siamo vabbè questo è quanto perché non dico un cazzo a nessuno non voglio essere detto in cazzo che se iniziassi a parlare saremmo freschi invece mi fa parla 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 mamma mia la classica frase parla di che c'è parla si io ma se fa vedere che lui è bravo e non parla se non sai che poteva dire però è buono vabbè sempre i cazzi miei da una vita e non voglio essere rotti i coglioni a me la cosa che mi ha fatto ride cioè ride tra virgolette sulla questione casi no è stata che la gente tuttora pensa che te che si è trasferito in portogallo ma è perché lo pensano perché la gente parla la gente lo pensa perché la gente parla quelli che non dovrebbero avere il mio nome in bocca lo hanno parlano e dà su questo va detta una cosa nel senso che devo essere onesto anche con voi un paio di volte avete fatto la battutina su sta cosa però visto che non ci recchiamo il culo a vicenda come questo gruppetto fortunatamente se guardate le live io proprio perché comunque cerco di non andare dritto io non ci credo partiamo da sto presupposto come fate legittimo ma in portogallo io in tal ora io non l'ho mai detto posso dire una cosa sola poi vi lascio la parola era solo per dire che comunque anche in quella live ognuno ha una visione diversa io ci ho tenuto a precisare più volte ma non credo comunque che una persona decide di trasferirsi solo ed esclusivamente per le slot eccetera quindi comunque per dire quella cosa è stata detta cioè c'è stata anche la contestazione all'interno di una discussione poi ognuno la pensa come vuole allora la cosa corretta da dire è che è una coincidenza fortuita per quel tipo di contenuto ma magari c'è dei motivi ci sta aveva appena iniziato a fare quel contenuto è andato in un paese dove le leggi coincidono secondo me neanche lo allora mi correggo gli credo secondo me neanche era a conoscenza di questa cosa che ci sarebbe stato anche un minimo vantaggio ma no cioè secondo me ho sbagliato in tutto quello che ho pensato da quando c'è questa storia no secondo me sai qual è il fatto una cosa non esclude l'altra e soprattutto non c'è neanche niente di male cioè nel senso uno decide di trasferirsi in un paese per un'agevolazione dico una cazzata fiscale per un'agevolazione lavorativa se è legata a una cosa che io ritengo immorale posso farmi qualche critica no però guarda su questa cosa posso dire che ci può stare il fastidio nei confronti di persone che in chat ti vengono a scrivere che ne so hai fatto questa scelta di vita per a me darebbe fastidio in tutta onestà non penso che sia stato l'unico motivo non penso neanche che non lo sapesse no sicuramente è una delle cose che valuti però ripeto non penso neanche che non era l'unico motivo però è assurdo ma pure che glielo dicevano già prima che dicessimo noi era una voce che girava no ma quello si da sempre sembra che è colpa nostra no no ma io mi ricordo guarda un paio di battutine su sta cosa io non mi ricordo e vabbè un paio di insinuazioni però ripeto lo dico solo perché capisco che effettivamente questa cosa possa essere fastidiosa anche perché ho visto non dipende da noi questo però persone a modena torna in Italia fai le valigie a Portogallo che è la classica cosa di merda che viene detta che ne so anche agli stranieri amori io dal governo di centrodestra tornate a casa tua io rimarrei in Portogallo perché c'è anche una tassazione credo migliore più vantaggiosa ma infatti è questo che volevo dire io non mi ricordo cosa è stato detto ma in riferimento a un Marza che va in Portogallo la prima cosa che penso io sono le tasse e slot poi non mi ricordo francamente quello che è stato detto se ho fatto battute o meno però il mio pensiero è questo cioè non penso che lui sia andato là per giocare slot io penso che lui sia andato lì soprattutto per il sistema di tassazione poi vabbè era quindi una coincidenza una coincidenza fortuita secondo te Giallo secondo me uno fa una coincidenza fortuita che oltre a quello c'era anche un alleggerimento per quanto riguarda il gioco d'azzardo non lo sapeva secondo te io l'ho saputo in live che in Portogallo funziona in maniera diversa il fatto delle slot che lui lo sapeva o meno che ne so io è legale proprio sponsorizzarli allora io penso che posso dire una cosa non me ne frega un cazzo nel senso che è una sua scelta di vita legittima probabilmente lo sapeva e l'ha valutato e tra i vari paesi che ne so con una fiscalità migliore a parte che non so neanche il Portogallo da questo punto di vista per gli over 50 se sia effettivamente vantaggioso forse più dell'Italia sì però in generale avrà fatto una media delle cose e magari un valore in più o magari no sinceramente non me ne frega se vai in un paese penso che ti informi sulle leggi che riguardano il tuo lavoro però posso dire una cosa tanto in Italia pure lo fanno quindi in realtà molti di quelli che stanno in Italia hanno continuato a farlo prima del blocco di Twitch comunque anche su Stake quindi se ne sono sbattuti il cazzo quindi forse ripeto per me tua scelta individuale di vita che non contesto e posso capire qui il fastidio quando la gente viene a sindacare su una cosa che alla fine non importa nulla poi l'intento suo ininfluente per me ma infatti lo dico solo per onestà ma infatti la cosa del Portogallo poteva essere tipo un meme una cosa simpatica quando è in Portogallo una coincidenza poi tanto il contenuto sarebbe stato criticato allo stesso modo anche se fosse stato fatto in Mozambico a Campobasso quindi era solo una cosa in più che colorava un po' di più tutta la storia che riguarda solo lui ma per il resto è stato ininfluente per quanto riguarda tutto ciò che ho pensato e che ho detto e che penso abbiamo detto c'era una cosa in più ma il discorso era quello ho detto over 50 si volevo di under 50 credo over 50 ci siano delle ci siano delle degli sgravi fiscali interessanti infatti ci sono molti italiani che finiscono e vanno lì a fare la pensione tra virgolette vabbè e ok dovrebbe essere da tranciare le gambe esatto i pensioni sono tassati perfetto ma chi traccia le gambe in un attimo due secondi perché non riesco a capire parlano che la gente parla quelli che non dovrebbero avere il mio nome in bocca lo hanno parlano e danno il loro giudizio e dovrebbe essere da tranciare le gambe se parli di un cazzo che non è il tuo ragazzi giustificate pure questo dai il giornalismo mi sembra giusto non si può parlare più di nulla in generale ma secondo me Totorina era d'accordo con questo approccio che dite voi regà colpa dei comuni no no vabbè ma c'ha ragione Marzo comunque che dico si sta ha i rosic ha rosicato per qualcosa che abbiamo detto a quanto pare un po' arrabbiato pure perché comunque non per colpa nostra però ha perso i guadagni quindi sta c'è proprio nervoso no io guarda a quanto pare a quanto pare io ho cannato completamente mi dispiace di aver solo pensato ci potrebbe ci potrebbe essere un collegamento veramente con questa splendida nazione il contenuto cioè non so come ho fatto a prendere sto granchio veramente io chiedo chiedo profondamente scusa perché si è offeso cioè a quanto pare io non volevo comunque perfetto perché è partito lo spot dell'or WPN la WPN è il più breve del mondo Portogallo con te che sorridi sì cliccate grande error WPN grandissimi le salite a Svizzera sì se trasferite all'Aleso sì io sto qui a pagare le vostre future pensioni stronzi la vostra sanità no scherzo pure voi lavorate o studiate siete bravi ragazzi contribuenti come noi una metafora per intendere bloccare sul nasce ahhh un poeta ma allora cambia tutto dai è tutto metaforio quello che stiamo sentendo non c'era arrivato quali pensioni infatti volevo dire la sanità no le pensioni secondo me nonostante i contributi che versiamo non le vedremo mai mai lo sapete che ho veramente questo timore per il mio futuro cioè noi stiamo versando una marea di contributi che comunque abbiamo monumenti abbastanza alti io ho questo incubo ricorrente cioè tutti i soldi che stiamo versando in contributi non li rivedremo tutti non li rivedi comunque però neanche una parte non so perché ma un sacco di gente c'ho sta paura è raro che riesce non li versate non puoi non versare i contributi ci dovono ma che volevo dire in teoria quelli ci ritornano in pensione sì io c'ho sta paura ti giuro mi sogno la notte Davide Marra vecchio che si alza ma ritirà la pensione nisba sì ma perché secondo me la minima proprio guarda mo che mi ci fai pensare le cose che mi sono venute in mente e secondo me questo fa leva su un sentimento anche nostro di millennial comunque delle nostre generazioni di ovviamente distopia io mi sono immaginato che non la potremmo avere perché non esisterà più l'Italia non esisterà più il governo cioè capito succederà qualcosa cioè se è successo il covid nel 2020 potrebbe succedere una cosa nel 2040 comunque ancora non siamo in pensione che distrugge l'umanità dobbiamo mantenere l'umanità intatta l'Italia intatta fino alla pensione poi quando moriamo poi succede quello che vuole come disse Sorrentino non ti disunire non ci disuniamo non ci disuniamo come trovivi male il lavoro no no vabbè ragazzi sto esagerando però ho effettivamente questo timore non sto scherzando comunque sì ragazzi sono obbligatori i contributi per le società e anche individuali noi paghiamo sia i contributi per la società sia i contributi personali ovviamente pensate che è uno scherzo pensate che è in gioco ma chi è chi è io sono portugese aspetta aspetta il venerdì alle 15 è fisso non l'avete capito ormai che cazzo è portugese è portugese eccolo vieni vieni inquadra devi entrare là metti davanti a te vai vai piano piano veramente mi ero venuta riposa un po' che non ho dormito guarda là oh che spettacolo metti un altro sfondo dicevo portugese fallo grande fallo grande piccolino più mi vedi piccolo e più sembro che ho 14 anni no così no così sembra tipo le prime comunioni e poi la prospettiva cioè se mi prendi da vicino sembra che c'ho una certa età vai 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 se mi vedi da lontano sembra che c'ho 10 anni di meno se mi vedi a 2 km di distanza sembra un bambino di 12 anni giusto? ora sei una festa di nobili che spettacolo ma che faccio? mi cambio? no no però non stai vestito in maniera vieni dal futuro adeguata e qua vedi che sono tutti lord ma che abito strano che indosso ma come si permette? non lo so sono le cose di Marco queste è un party da nobili barocco barocco e noble party ma che mi ha messo sul tavolo? si c'è il re sole no se vai a sinistra esci in corridoio sinistra mia aspetta ah aspetta mi vado a me vederci canepazzo mo noi stiamo alleggerendo la pillola ma stiamo rispondendo a uno che ci sta dicendo che ci ammazza che ci trancia le gambe quindi adesso stiamo rispondendo in maniera diciamo molto di chi? di gutolo chi è gutolo? io farei sentire a canepazzo i due che figata lascia a perdere senti un po' che ha detto perché è importante io non voglio polemiche in sa cazzo dei chat vuoi vedere vedi se no batta a vedere Cerbero e poi vieni qua scriviamo che sto buttato me devono romper cazzo porca troia cioè niente il Marzone utilizza tecnica del factos però non consapevole che tutto ciò ha una conseguenza non me ne frega un cazzo si basta è finito il casino amor nome mio prendi ti ammazzo tutti ma con chi cazzo ce l'ho? col cervo con noi ma chi? Erduka? eh quello delle parti borghese Erduka Erduka? eh che ne pensi che ne pensi? però no vi ammazzo tutti vi ammazzo tutti ti ammazzo sì vi ammazzo tutti no? com'era? se ti metti il mio nome in bocca ti ammazzo tutti ti ammazzo tutti non significa che non ci diamo capito noi ci stiamo interrogando sulla sintassi ma che ne pensi? ma che ne pensi? che devi averci paura? di chi? di Erduka eh sì perché vi ammazzo tutti sentendo la famiglia e tu sei uno delle persone più vicine a noi quindi in realtà sei a rischio l'ho acceso il mic 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 se sente se sente se lo allontani se senti tu sei molto vicino a noi quindi a rischio anche tu magari un vedo l'ora magari viene gli faccio spendere 15.000 euro di dentista nooo ci dissociamo ci dissociamo deve venire da me porcaccio il dio venisse da me venisse da me ma ovviamente intende perché c'ha un amico che è dentista odontoriatra sì c'ha uno sconto e c'ha uno sconto dei 15.000 euro e c'ha una nicchia viscia e andiamo avanti io con sta gente qua ma pure se stai a giocare già mi ha fatto nervosia a me certo ma pure a noi a me mi ha fatto nervosia ma questo un docasso sta in portogallo a pezzo del merda stai là stai là in portogallo perché poi io perché non mi posso aprir canare perché sennò io divento sai che divento del libanese cioè a me io li sporvero proprio spariscono a me non me ne frega un cazzo del carcere del quello non me ne frega un cazzo di niente io vi anniento proprio capito a me se vieni personalmente mi rompi il cazzo io ti faccio a pezzi a pezzi la giornata è storta oggi ti senti il mostro dei file così a pezzi chi è squali state arrivà e no allora ragazzi finiamo il video sennò qua non ne usciamo vivi comunque cane pazzo c'è il suo canale effettivamente e che cane pazzo c'è il canale benvenissima rompere i coglioni sul canale passa 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 stiamo avanti stiamo avanti ragazzi un attimo che c'è la potenziale due in buca sulla questione casi no mo c'è la critica di frenesi dunque c'è un vestito bellissimo che ne va la critica di frenesi che è interessante un vestito meraviglioso non so se te si mi da una vita e non voglio essere rotti i coglioni a me la cosa che mi ha fatto più ride cioè ride tra virgolette sulla questione casi no è stata che la gente è tutto tranciare le gambe se parli di un cazzo che non è il tuo io io per concludere stasora solo in opinione la dico adesso alle 4 e 40 poi ognuno fa come cazzo gli pare c'è chi viene criticato e insultato perché in modo magari a volte anche in modo anche troppo troppo spinto facciamo delle battute molto che dai vite che si vorrebbero tranquillamente evitare aspetta però allo stesso tempo ci sono persone che fanno il contenuto solo sui drama e sugli sbagli che comunque anche noi umani possiamo che noia ragazzi che noia anche noi umani stessa cosa riciclata mamma mia esatto noia noia ma noi facciamo i contenuti sugli sbagli sbaglio podcast mamma mia che noia io sbaglio podcast solo quando apro il muschio selvaggio eppure feroci no feroci è approvato anche se non abbiamo mai visto una puntata è approvato questa era notevole devo dire questa era notevole grazie grazie che c'è da dire qua le solite puttanate a parte che poi quando ha avuto l'occasione frenesi l'ha fatto subito su di noi anche dicendo cazzate quindi basta con sta roba nessuno deve parlare di me si non parla di loro fate solo quello parlare di altri cioè ragazzi ancora così stiamo veramente evolvetevi nella critica cristo c'ha ragione blur nessuno sa più fa un dissing una critica un confronto un piattume chi è che ha detto blur si ma quando ma perché la gente settimana fa io no proprio la gente non sa parlare proprio il problema è la base ma questa è la mia osservazione sul mondo ecco nel momento in cui io faccio una stream su di te di Real Marza ad esempio ok faccio una stream su di te giudicando il tuo lavoro io allo stesso tempo devo essere qualcuno che non oltre fa un bel lavoro ma devo essere nell'Olimpo allora punto primo non è vero chiunque può criticare chiunque non devi essere non devi essere non devi essere stato un grande giocatore per fare il critico sportivo l'analista sportivo per commentare le corse dei cavalli non c'entra nulla beh c'è chi dice quello che ha detto lui e chi dice chi sa fare fa chi non sa fare insegna che è tipo l'opposto quindi qual è vera delle due nessuna delle due anche nel secondo caso siamo nell'Olimpo quindi se vuoi ci hai dato anche la legittimità di criticare il lavoro altrui sì quindi in entrambi i casi va bene grazie Frenesi piattaforma punto perché per giusto a dire non se lo avrebbe mai giuricato hai capito tu anche adesso stai dicendo quello che secondo te sbagliano che non dovrebbero fare e quant'altro io non lo faccio mai a me non frega un cazzo di quello che fanno lo so però tutte queste cose queste masse di persone che si spostano non si spostano perché si spostano perché sta visione dato che io non faccio una cosa non la dovrebbero fare neanche gli altri è proprio una stupidaggine mi dispiace il concetto è come dire cioè io che ne so Marz io non ho mai giocato alle slot quindi non dovresti giocarci nemmeno tu ha senso secondo te è una cazzata quella che ho appena detto ci sono persone che fanno contenuti sugli streamer eh sì 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 e non è che fanno contenuti persone che fanno contenuti su giochi creati da altri incredibile persone che fanno contenuti su giochi creati da altri per mandare in rovina le persone e guadagnarci io su questo sono proprio fiero cioè allora gente che da quando io conosco Ditch appunto cioè rompe il cazzo i gamer che rompono il cazzo a chi fa cose come le facciamo noi è assurdo cioè gente che magari gioca un gioco stando zitta per otto ore usufruendo di un contenuto creato in anni con milioni magari di dollari di investimento sta là a Niki Lida a giocare in gioco quello va bene noi che commentiamo una clip di uno che dice cazzate non parlo di questa live parlo in generale non va bene ma poi sai qual è il fatto no? in qualche modo è immorale capito? potevo pure stacce qualche anno fa che per questi sembrava che era arrivato no? e ragazzino nuovo che gliele fava il giocattolo ma ormai sono passati anni ma ancora non ma ancora non v'è sceso giù l'amaro da bocca noi con tre secondi di clip gli facciamo tre ore di live ancora te no te no sto a parlare a loro io in generale voglio dire questo non v'è ancora sceso giù l'amaro che c'è qualcuno che effettivamente conoscendo la piattaforma può criticare chi c'è sta dentro e fa cose che la gente da casa neanche sapeva esistessero prima 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 di noi un merito che mi posso prendere è questo e sai perché mi prendo questo merito? perché a distanza di anni se sente ancora gente come Marza un po' meno frene perché frene è più è più la sua idea non è che lo fa bruciore di culo oggi Marza è certo che mi prendo il merito vedo che gli brucia il culo su una cosa che non gli va bene a lui solo perché non gli va bene a lui personalmente ma a livello contenutistico invece è un bambino che frigna che è arrivato qualcuno con un giocattolo nuovo e questa è la natura realtà tra l'altro se vogliamo parlare di contenuto originale probabilmente siamo il canale che produce più contenuti originali dato che produciamo idee e pensieri giornalmente per ore e ore sì ma questo è proprio nella categoria non l'unico uno dei tanti quindi se la critica è parlate di altri a parte che il massimo dovreste dire parlate di altro perché parliamo molto più spesso di notizie o cose di attualità parliamo del mondo notizie che ci interessano nel mondo e dato che lavoriamo su Twitch ci interessa anche Twitch non è scontato che noi parliamo di Youtube di Twitch potremmo essere anche un podcast che parlava di calcio che parlava esclusivamente di politica gli argomenti almeno per quanto mi riguarda sono sempre stati scelti in base a ciò che mi appassiona anche quando ho aperto Youtube fa cagare mi appassiona parlare di questo del social dei contenuti che ci stanno e quindi è come un qualsiasi altro canale che parla di le sue passioni per quanto mi riguarda il modo in cui parliamo le cose che diciamo criticabilissime per carità di Dio possiamo dire cazzate questo è indubbio però questa cosa qui non sussiste lo capisco da mio punto di vista posso dire una cosa è anche elevare il lavoro che facciamo il fatto che esistiamo dà importanza a tutte le cazzate cioè immaginate un mondo dove fate tutto quello che fate qualsiasi gente che abbiamo reactato e nessuno dice niente ma che è? sono d'accordo noi legittimiamo la vostra posizione come un Victor Laszlo che dice che è un regista è un coglione perché ha fatto una scelta di merda a livello contenutistico noi che diciamo che una persona ha sbagliato a fare quella cosa perché è immorale perché a livello di contenuto è una merda eleviamo la figura del content creator in quel momento pensa un po' questa è la mia idea eh sì tendenzialmente questo avviene in tutti i campi cioè quando l'altra volta vi dicevo la critica cinematografica in Italia è in estrema decadenza perché il cinema è decadente gli diamo importanza spesso vanno di pari passo cioè una cosa alimenta l'altra sì cioè è il dibattito la discussione pubblica su un tema rilevante e esempio quando sono cominciati a uscire i primi libri di critica cinematografica che gli edusinema che ragionavano sul regista in questione Hitchcock è un coglione o un genio è un autore o è un mestierante no quella discussione nobilità nobilità ad esempio il po' cazzo citato Hitchcock ma nobilità la categoria la professione eccetera comunque al di là di tutto questo capisco anche pompini a vicenda pippe però posso dirvi una cosa raga mi sono anche un po' rotto i coglioni cioè nel senso che ci possiamo prendere un minimo de meriti ogni tanto assurdo possiamo ogni tanto penso che sono quattro anni che stiamo qui a martellare tutti i cazzo di giorni la gente deve sempre etichettarci come siete Barbara D'Urso fate cagare cancro di Twitch se voi andate su TikTok e cercate qualsiasi clip che riguarda noi vedrete tutto il pubblico di questi che poi si mettono in bocca io quando leggo commenti dei nostri al massimo scrivono le cazzate i meme poi qualche imbecille c'è sempre quando vedo una qualsiasi clip di TikTok con freebooting che ci riguarda c'è una marea di mondezza che ci etichetta a prescindere perché è gente che non conosce quello che facciamo quindi ogni tanto lo voglio ribadire mi sono rotto il cazzo sono fiero del lavoro che faccio e che facciamo assieme e non voglio che la gente dica il contrario e poi loro si vedano anche lo spezzone del cazzo dicano quello che vogliono come lo dico io e poi loro sono coinvolti personalmente loro sono coinvolti personalmente non è tanto parlano di altri ma in testa loro stanno a parlare di me è quello perché finché parli di altre cose stanno là tranquilli magari te vedono e ti dicono pure bravo no? però senza dirlo perché all'angoletto no? senza farlo sentire anche ai propri amici no? perché c'è c'è stai gimmick in mezzo a sto gruppo e il campetto che se uno mezzo apprezza deve stare attento a dirlo è la gimmick del cortile vabbè regà vi posso dire una cosa grazie Magico però se uno vive nel mondo che può essere comunque visto o del spettacolo o del qualsiasi cosa e comunque la gente ti vede ti ascolta e tutto quanto dai più grandi ai più piccoli cioè le critiche ci saranno sempre perché c'è sempre qualcuno che magari non vede il modo come parli o come ti esprimi o quel tipo di quel giorno ha fatto quel tipo capito? io prima ho detto se tu vai in live sei in mondo visione devi tenerne conto che sei in mondo visione voglio dire cioè ci sono stati pure i grandi dello spettacolo che sono stati criticati cioè c'è sempre qualcuno che te critica è legittimo e fa crescere anche quel tipo di ambiente è la critica alla community che parla di se stesse non parlavo solo di noi parlo anche in America no 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 in generale però l'intelligenza dove sta? sta nell'andare avanti e non senti quattro scemi che magari te criticano e magari vedi ma se i quattro scemi siamo noi? vabbè i quattro scemi perché no vabbè quello è una cosa che tu cioè se tu voglio dire se io non me sento allora in quel momento allora se uno mi fa una critica sì cioè dipende che critica mi fa cioè mi può toccare come non mi può toccare però la maggior parte dei critiche che vengono fatte vengono sempre per sminuire persone non vengono mai cioè perché se una critica è costruttiva io parlo di quella critica magari gli scrivo e dico c'hai ragione magari gli scrivi tu non eri ancora arrivato Massimo l'unica cosa che ha detto Marza secondo me sensata io ho detto sì qua possiamo fare un mea colpa su sta cosa ci può stare ma infatti il discorso che ho fatto prima era semplicemente relazione eh vabbè però non vi fate i pompini a vicenda no ci sta però come minima compensazione a quello che diceva Canepasto cioè una marea di parole spese sul nulla con argomentazioni che non esistono ci possiamo prendere questo cazzo questa piccola questo piccolo spazio ogni tanto nel nostro cazzo di canale per dirlo tanto non andrà a counterare tutto il resto che è giusto che esista cioè la gente ripeto che valuta da tre secondi che non ci conosce che ci odia a prescindere va bene però mo addirittura che possiamo manco di che facciamo un bel lavoro mi sembra un po' troppo basta questo poi dite quello che vi pare ma ci mancherebbe se tu sei quello che sei io penso che cioè se voglio dire se io mi sento sicuro di me stesso e di quello che faccio cioè soffermarmi su una persona che mi è stata criticando io parlo per me stesso vedo come un momento di debolezza cioè nel senso nel discorso facevo più di mano cioè a me non posso stare a sentire le cazzate che mi diceva grazie Perez io posso prendere una critica costruttiva poi del resto non mi interessa di quello che dico io vado avanti alla strada mia e so i risultati che contano non so le parole è vero ok non si sente cioè ancora oggetti fanno contenuti palesemente perché devono fare il contenuto quindi so molte parole buttate di random clip buttate di random perché poche frenesi poche peso le mie parole anzi talvolta ribadisco le stesse cose quindi al massimo mi puoi dire che ripeto le stesse cose ma non le butto non le spreco se le ripeto più volte è perché voglio donare più peso alle mie affermazioni molto raramente avete rotto il cazzo parli di tutti i stupidi pulcini mi compro bella cabrons bella abbraccio coglione perché parli in questo caso vai a mangia come vuoi ma tu ormai ripeto se una cosa come il casino che ripeto già è sbagliato eh grazie 20 euro grazie anche cabrone frenesi schiatta no 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 cabrone il solito coglione proprio parlare di me perché dovresti parlare del casino non di me fatto che io lo faccio ma chi ha demenezzo di te ma no ma cioè nel senso parli del problema del gambling e cidi alcuni esponenti oppure nello specifico eh come è successo abbiamo risposto alle argomentazioni del marzone sulla questione gambling cioè problema macroscopico gioco d'azzardo su twitch diciamo la nostra ok poi eh questa persona risponde noi cerchiamo di ehm argomentare contro argomentare l'argomentazione ma certo come successe con l'altro ragazzo streamer ok non è una cosa personale nei confronti del marzone e ripeto come ho fatto da clip prima io avevo quello di ricordo poi se spari delle cose che per noi sono cazzate oppure cose contestabili le contestiamo oppure si fanno degli esempi eccellenti perché ad esempio lui è stato poco prima del provvedimento il massimo esponente del gambling del gambling su twitch in relazione a stake che è stato il primo sito bannato quindi ovvio che lo citi il messaggio del donatore vai è il cat ci scrive siete migliori fanculo la gente che spara monnezza e solo invidia la loro parere personale un po' too much grazie grazie qualcosa che magari dovrei avvertire qualcuno non parlo di questo caso nel mondo nel mondo ideale di marza quello che appena ti è scritto tu vedi una cosa te ne vai guardi in un'altra parte c'è un termine associato omertà forse come? omertà può essere sì non mi ricordo bene però oppure una mente superiore eh secondo me è più quello secondo me è utopia è il termine che cercavo utopia è trascendente mannaggia la miseria cioè si spiega da solo a me non interessa non è che voglio farlo io e fare o quant'altro ma non dovresti mettere in mezzo la persona quindi se con il casino mi sono stato zitto allora qua bisogna fare una distinzione molto importante io non so manco qual è il tuo nome di battesimo esatto tu sei marza tu sei lo streamer marza che c'è un pubblico vastissimo che fa dei contenuti visti da migliaia di persone che ha un impatto sulla piattaforma in cui lavoriamo anche noi di cui parliamo e commentiamo molto semplice eh nessuno ha mai parlato della persona Francesco da quello che mi dicono ehm pandemio non mi sta ok ehm parlare di cose private della persona invece sarebbe stato ehm il racconto che vi ho detto prima su social boom e la sua ex io parlo cioè parlo della vicenda privata di Francesco con la sua ex ragazza perché è un personaggio pubblico è una cosa diversa e infatti non l'ho mai fatto cazzi perché era una roba border e va bene l'abbiamo capito mu quello che cazzo voglio fare nella stream mia devo poter fare nella stream mia se sento un altro che dà giudizio a cazzo sul perché io mi sono trasferito quant'altro non sento fiatare a che sei volato ma tu Marzo vorresti anche esempio domani fai una battuta infelice fai una cosa e il giorno volato cioè bannato si riferisce a chi io lo scrivo in chat e questo è assolutamente legittimo ci sta te rompono il cazzo ribanni ma non rompete il cazzo a nessuno a prescindere questo non riguarda noi riguarda le persone che magari scrivono sta cosa se qualcuno è dei nostri ragazzi ribadiamo ad ogni live non fatelo perché date solo anche se voi odiate questa persona o odiate il personaggio il personaggio odiate il contenuto cioè fate il suo gioco in generale a che cazzo serve? io rinnovo ancora le mie profonde scuse per aver sospettato un collegamento ragazzi non so come ho potuto perché lo dico solo perché lo ha ridetto penso sia importante certo ogni volta va ribadito sì tacohead59 grazie per il tuo primo abbonamento qui da noi grazie Mason oh raga a proposito oggi è l'ultimo giorno di settembre l'ultimo sub eh sì gli sconti ci sono solo fino a stanotte sconti e poi domani si ripaga il sub in bagnina normale quindi se volete risparmiare specie con più mesi insieme oggi è l'ultimo giorno si può arrivare a due euro al mese se uno fa il sub tipo questo aspetta faccio subito l'abbonamento ah ok due euro al mese bravo è una cosa importante che me l'ho dimenticato con l'occhialetto me l'ho messo pure occhiali da vista prego prego questo è tipo il tutorial per non sbagliare esatto metti una musichetta Marco tipo da spot grazie 33 mesi porca troia moglie buona 64 mesi grazie Nick grazie mille Nick grazie Jonas che è arrivata una sub a Blur 5 abbonamenti grazie come si chiama Hellcat no il tuo record il tuo record con Aladino era livello 5 non si può battere abbiamo battuto era tipo livello 5 però superato quindi era tipo l'equivalente del livello 6 o 7 ieri siamo arrivati al livello 8 grazie raga record italiano e quanto abbiamo guadampiato un boato 500 sabbamo fatto ieri mamma mia che spettacolo ecco perché grazie Jonas si è regalata pure a marzo ecco perché poi la gente dice quello cala tu vai sopra fanno dei contenuti di merda per capita funziona così grazie funziona così Raul oggi sabbago ha fatto livello 12 complimenti però posso dire una cosa ci sono vari livelli di hype train perché se voi vedete ci sono i canali piccoli che anche con 5 sabb riescono a fare un livello però non credo che valga per sabbago aspetta è personalizzabile ok se io adesso vado sulla dashboard e diminuisco il livello di difficoltà del hype train e facciamo i stessi sub che abbiamo fatto ieri invece di livello 8 arriviamo al livello 40 ok noi abbiamo l'hype train più difficile che c'è su twitch l'abbiamo messo al massimo più assoluto quindi essendo arrivati a livello 8 con più di no no io devo essere tecnico essendo arrivati a livello 8 con più di 500 sabb se me venite a dire Pinco Pallino è arrivato a livello 30 con quanti sabb? 100 200 wow ma non è la stessa cosa punto comunque ovviamente solo per essere precisi perché se uno mette l'hype train già un livellino più basso tu livellini più bassi invece di livello 8 stavamo a 20 no no è vero ovviamente scherzavamo sul record italiano sinceramente non lo so è comunque un risultato incredibile Ivan mi ha battuto ha fatto 2.000 in un giorno vabbè però aspetta noi abbiamo fatto in un'ora e mezza non in 24 ore pure Boscar noi abbiamo fatto 2.000 e passa sub grazie forse 3.000 forse 3.000 ne abbiamo fatti 4.000 no no sì mi sape sì mi sape sì perché eravamo scesi stavamo sui 6.000 stavamo a 5.000 6.000 sì sì vabbè comunque tra l'altro complimenti a Ivan complimenti a Ivan in generale per la maratona ma in generale anche questo fa capire proprio il nostro gruppo tanto criticato pure il buon Ivan che è praticamente un nostro sia neanche collega è proprio un collaboratore e è un fratello sì anche io come collaboratore sono felicissimo parlano chiaro i risultati i risultati parlano chiaro che cazzo è? è collaboratore di giustizia Ivan più che altro no cane pazzo è bravo no andiamo avanti Simone sta a morire una settimana dopo cane pazzo ne potiamo più un'ora e mezza stiamo a 4 minuti dei video comunque solo noi è raga c'è un'ora e mezza su 5 minuti dei live ancora che dicono fomo contenuti originali porca puttana cane pazzo si è portato occhiali perché mi deve dare una mano a montare il papis ora io devo dire una cosa lo sapete che Galletto solitamente dice sempre l'opposto della realtà però una cosa l'ha capita quello che noi vediamo story impact collegio videogiochi video di qualsiasi tipo grazie grazie Jonas Marco buona ancora va in giro Galletto ha capito che tutto ciò è solo la base cioè è il background capito di cosa della live del cerbero ah certo cioè è l'elemento meno importante alla fine è semplicemente un sì importante lo sfondo la scenografia è la scenografia galletto l'ha capito eh tipo quando diceva il collegio però non lo vedete poi ma quello è il punto il videogioco non fate il gameplay ma non siamo sabbaku sabbaku fa benissimo quello che fa tra l'altro vorrebbe venire settimana prossima però è un'altra cosa comunque basta andiamo persona x che magari gli linkeranno una clip che faranno quello e farà il contenuto su quella cosa perché è così oramai che funziona perché non succederà questa situazione perché sto cercando in tutti i modi di abbassarmi i numeri sto continuando a fare giochi di merda di fattutica la decrescita programmata no si si 20 sub grazie mille inizio andiamo let's go mamma mia ragazzi come stiamo sfruttando bene quest'ultimo sabbaku nuovo format incredibile qui c'è un futuro cioè allora noi abbiamo detto mille e più volte no che questi queste pratiche erano associate ad un embedding super legittimo si casualmente dici tu non c'è altro da dire su questo sono d'accordo qua ci possiamo lanciare decrescita programmata ci possiamo lanciare in un'illazione però decrescita programmata giustamente ma certo se il flame va via dono 10 e ci sub vai ti giuro apro la porta mi metto a correre ma che 10 100 donati da quello 10 si ah è vero ieri Blur ha fatto effettivamente un record record italiano di sub 28.000 complimenti complimenti Blur in un giorno no 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 totali 28.000 questa è vera oh bravo top voglio 29 mi ricordo top e se non fai numeri non ti cacano no Marzo cioè questa cosa è vera ma al 50% perché Marzo stai tranquillo che se non fai numeri non te cacano e non te cacano quando metteranno sul titolo non metteranno più dei Real Marzo allora allora anche questa cosa purtroppo non è vera nel senso che tanto come fai fai male abbiamo parlato di quell'altro streamer che faceva Casinò che è uno streamer piccolo ma taccanesci sui piccoli parli di quelli grossi ma lo fai per hype noi parliamo di chi cazzo ci pare a noi a patto stasi a pubblico è dal 2016 mannaggia la madonna esatto basta che sia pubblico e che sia rilevante per noi che sia rilevante e anche cose private diventate pubbliche lì al massimo si fa un ragionamento secondo le eticità del singolo che ne va a parlare però se tu ma l'ha detto Simone prima anche due volte l'ha detto basta è dal 2016 non vuoi che la gente parli di te cambia lavoro cambia lavoro o perlomeno smetti di esistere sul web pure se fai una storia a Instagram io parlo di te quindi lo devi accettà però se te brucia così tanto il culo chissà perché io penso sia la parte se uno ha la coscienza pulita puoi parlare ma perché cioè io tutti quelli che sento che si lamentano è sempre o perché sanno che effettivamente c'è qualcosa da di però il pensiero è speriamo che non mi dicono niente se no vedi se può creare qualche rogna perché su uno c'è la coscienza pulita sta tranquillo sta tranquillissimo e accetta che gli altri ne parlino anzi vi dirò di più chi ha la coscienza pulita magari è pure contento che gli altri ne parlano perché di solito è pubblicità però nell'altro senso potrebbe diventare cattiva pubblicità se io penso che uno mi fa cattiva pubblicità non è perché penso che sto facendo qualcosa che non va bene quindi della logica purtroppo ragazzi è sempre questa e va sempre bene su qualsiasi personaggio dal 2016 ad oggi fatemi sapere quando cambierà perché sennò qua tocca ripetere sempre le stesse cose sono d'accordo l'unica eccezione magari tu fai una cosa non sbagliata ma chi ti critica mistifica però tu là puoi difenderti eh sì anzi c'hai armi a disposizione hai la vittoria eh a voglia sì certo no perché tu puoi dire raga così 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 tu hai detto ho risposto ho smentito probabilmente l'altro magari farà anche una figura X eh win il problema è solo quando una figura più grande mistifica su una più piccola che non ha i mezzi per rispondere vero in quel caso ok però secondo me in questo caso è successo un'altra cosa noi siamo più piccoli di marza o equiparabili a livello di pubblico di numeri dipende dal cioè nel senso da quando ha cominciato a fare casino sì prima no beh in quel momento lui stava a fare stonks totali era in prima se parliamo di viewers il sub non lo so in questo caso secondo me è uno un po' più piccolo che dice qualcosa a qualcuno più in alto che però vuoi per un motivo o per un altro non ci ha risposto bene forse perché non può non voleva fatti suoi infatti ci provò quello che dice Gianluca è che tutti sono ad armi pari hai ragione su questo però non tutti hanno le stesse armi è il piccolo che schiaccia il grande se il grande anzi il grande che schiaccia il piccolo se il grande dice bugie sul piccolo e non ha la stessa potenza di fuoco il piccolo sono d'accordo come successe con il ragazzo del casino tipo quando Twitch leva al casino lui ci ha provato a fare sta tecnica effettivamente non sapendo che avevamo il VOD intero però effettivamente come difesa ci stava vedete questi mi massacrano su una cosa di contestualizzata e io non ho abbastanza potere è per questo che io sento un enorme senso di responsabilità per quello che dico e faccio questa scherza l'amico di me la godo vabbè faranno fatica anche a dire questo ormai beh signori mamma mia il tocus stasera la Blur gli frega un cazzo esatto che a Blur non gliene fonte un cazzo ma certo giustamente ma perché ha capito ha capito secondo me effettivamente quello che facciamo sì ma penso che Blur è una persona che sta a posto con se stessa ma sì esatto non percepisco questo di lui non ha complessi di inferiorità in questo momento anche perché numericamente non può averli anche se non è detto perché possono comunque esserci e soprattutto sa di non fare qualcosa di sbagliato a differenza di Marza perché fondamentalmente ragazzi alla base del Rosic c'è sei consapevole che stai ricevendo delle critiche molte legittime per una cosa brutta o comunque borderline e in più vabbè c'è il Rosic per aver perso dei soldi e parte del tuo lavoro che posso comprendere però questo non ti giustifica comunque posso dire una cosa la mia prima era una gag sono entrato ho fatto ho detto ma io voglio dire neanche lo conosco quindi non posso essere arrabbiato con questa persona ma poi tu sei la persona più buona del mondo apposta anche perché io mi posso arrabbiare sinceramente sto parlando seriamente io mi posso arrabbiare di una persona che stimo e che magari è un amico allora se mi fa un qualcosa o mi dice qualcosa ci posso rimanere male ma di una persona che neanche conosco la mia era solamente una gag che sia chiaro perché magari questo può pensare diciamo questo che vuole che mi dice mi fa io scherzavo amico mio scherzavo tesoro sei il mio tesoro sei il mio tesoro scherzavo io scherzavo che io volevo solo dare loro un po' di gioia sei il mio tesoro perché va tutto storto sempre più vabbè è meglio chiarirla sta cosa perché uno uno può pensare cioè io sono entrato ho potuto fare la solita entrata la cane pazza però giustamente cioè io neanche lo conosco quindi non posso inviare in me su una persona che neanche conosco e non so neanche i contenuti o quello che porta io non cioè non lo conosco quindi ribadisco mi posso arrabbiare se è un amico che magari mi tratta male o mi manca il rispetto oppure ci ho stimato adeguata la persona ci posso rimanere male allora ci può essere in dibattito ma ecco voglio dire solamente questa cosa perché ci tenevo anche perché sto con voi che magari uno può pensare diciamo questo entra al cerbo era solamente una gag ragazzi stop che abbia detto una frase se io posso aver detto qualcosa che mi scuso perché neanche lo conosco quindi era una cosa detta così no guarda io posso dire una cosa secondo me è lui che dovrebbe scusarsi con noi ti butto là sì no con noi per le cose che ci ha detto ammazzo di qua ammazzo di là le gambe io pretendo le scuse da parte di Marza onestamente perché è indicibile che mi debba sentir dire queste cose da una persona che lavora nel mio stesso sito quindi aspetto le scuse pubbliche per quanto mi riguarda non voglio scuse se deve esserci una risposta probabilmente non lo farà perché non gli conviene vorrei che si rendesse conto delle stronzate che ha detto ma non neanche nella minaccetta nell'insultino proprio quello a me tanto non tocca però questa presunzione nel sostenere cose false o discorsi folli sulla libertà di espressione in generale se dovessi avere una discussione con lui in confronto con lui chiederei soltanto questo ma tu sei veramente convinto di ciò che hai detto questo ammiro la tua lucidità Davide io invece sono proprio rimasto male nel profondo è un po' un collega cioè potrei avere problemi anche lavorativi e psicologici dopo questo insomma è dura da accettare io ancora non riesco a capire quanto alcuni personaggi davvero si sentano all'interno della propria bolla loro e loro amichetti hanno questa visione distorta di come funziona il web mi fa pure strano perché è una persona che sta sul web pure da molti più anni di me quindi sono d'accordo non riesco a capire stanno all'interno di questa bolla quasi di presunta intoccabilità tocchi uno tocchi tutti non è secondo me un approccio buono perché vi create da soli sto nemico immaginario che alla fine neanche esiste cioè qua però vabbè sono d'accordo tu non mi dici ti ammazzo tutti tu non me lo dici chiunque tu sia sei pure un mio collega è questo il mio messaggio di principio non me lo vieni a dire e se me lo dici mi chiedi scusa punto vale per chiunque al mondo sia chiaro quindi può parlare solo Blur non la penso così ehm no no è partito da solo e si si è sposta dal coso cazzo volevo dire ah vabbè intanto Jonas sta facendo delle sub in regalo super meme tipo ha regalato abbonamento a Ciccio Gamer a Ceduzzo a Ceduzzo Idraselvaggio eccetera pure a Marza a Marza a Frerezi a tutta Melagoto Blur chi era l'altro Alfazzone cioè per sto sentimale poi ho visto ha regalato quasi è arrivato quasi a mille sub regalate complessive vabbè allora Jonas ti ripeto tu sei invitato ovunque il sergente oggi ha comunicato allo staff per quanto riguarda l'ingresso al party però mille sub come avevamo detto conduce da solo la trasmissione quindi quando vuoi vieni qui o ti metti al posto del Chitano e fai la regia o ti metti al posto mio tu dove ti pare al posto del Canepazzo fai quello che ti pare vieni qua smanetti smusica regalata alla Sabba Joker è legato anche e la mia incazzatura è legato anche al discorso intoccabilità che mi sono rotto il cazzo onestamente sono anni di queste uscite alcune battute alcune meno l'abbiamo detto all'inizio perché è arrivato ora basta basta ah si ecco che volevo dire sul fatto dell'intoccabilità dato che prima mi hanno chiesto anche di specificare ha detto una cosa giusta Gianluca perché cioè la domanda è perché ma anche tu prima perché si comportano così e soprattutto Gianluca faceva riferimento al stai da tanto sul web non dovresti aver capito determinate dinamiche probabilmente la motivazione è un pubblico acritico un pubblico che li idolatra tendenzialmente piccolo tendenzialmente ma adesso non conosco i numeri poi che ne so nel caso di Blur dovremmo fare delle distinzioni Blur c'è un pubblico talmente grosso che avrà varie fasce di età però leggendo la media dei commenti eccetera comunque mi sembra anche nutrito dal punto di vista del pubblico magari di minori o comunque ragazzetti giovani ma in generale un pubblico che li vede come divinità e quindi loro se non ricevono mai feedback anche negativi o critiche eccetera non riescono a comprendere uno dei propri errori e non tollerano quando qualcuno glielo dice fuori dalla loro cerchia ecco tu hai detto la parola giusta infantilità insomma io prima ho detto mi sembra la cricca del cortile mi ricorda quel tipo di mood dei ragazzetti del cortile che dicono le cose però mi sembra che sono rimasti al cortile dico solo questo sì 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 poi vabbè diciamo che la povertà lessicale influisce comunque non è una colpa no 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 influisce anche nel dibattito ah quello ebbè sto scherzando perché perché come disse il buon vecchio Carimberti se non conosci alcune parole è anche difficile per te esprimere dei concetti infatti io volevo arrivare proprio a quello è molto più facile offendere che argomentare sigma no no ma io questo lo dico anche se posso sembrare presuntuoso lo dico per un motivo perché alle volte quando ascolto i discorsi di Marza anche di Frenesi nonostante Frenesi lo trovi più dolce lo trovo un ragazzo dolce Frenesi sensibile non sto scherzando mi sembra un bravo ragazzo però abbiamo invitato anche nel suo caso magari anche Zano a tratti alle volte nei loro discorsi escono fuori delle argomentazioni strampalate magari non è loro intenzione dire le cose in quella maniera lì è solo che come costruiscono il discorso non si capisce ok quindi forse si autoscammano ok anche in tal senso quindi questa è in realtà è una problematica che li riguarda questo perché accade perché evidentemente se rigetti costantemente il confronto anche con chi ti segue che è spiacevole ragazzi non pensiate che a me faccia piacere ogni giorno leggere valanghe di critiche però in quella valanga ci sono due consigli utili una provocazione che mi porta a migliorarmi quindi mi porta a migliorare che cazzo l'ha messo non sai conoscere il vocabolario no però è più facile strutturare un discorso se conosci bene alcune parole no quindi escono fuori spesso strampalati va anche oltre il lessico che uno sa ovviamente questa era una postilla secondo me il problema principale è questo cioè hanno questo determinato pubblico abituati in questo modo ad essere incensati come divinità egizie quindi non tollerano le critiche tant'è che ho letto qualche commento pure in chat perché se le critichi vieni bannato subito è legittimo però è ciò che sto dicendo io è piacevole non riceverne è piacevole per l'ego vivi sicuramente meglio però i risultati poi sono questi quando ti trovi davanti una persona che riesce a risponderti e non è un utente nella tua marmaglia in chat o anzi nella tua basta nel tuo vasto pubblico il marmaglia è dispregiativo quindi mi correggo perché dovrebbe parlare solo già perché io sto dicendo che non ha senso mettere in mezzo i cazzi di un'altra persona basta che vuol di ma che vuol di cazzi di un'altra persona cioè stai a fare una cosa pubblicamente non ho raccontato quello che hai fatto da panettiere non so i cazzi tua vedi no è proprio sbagliato il concetto di base mi dispiace l'ha ripetuto mille volte solo quella l'argomentazione quello è il discorso cioè in generale che sia Gianmarco che sia un altro non si dovrebbe mettere in mezzo un'altra persona ripeto per il casino lo capisco ma mo' è finito però io è un mese che non lo fa solo quello abbiamo parlato solo del casino e che stai a dire la cosa del portogallo ovviamente non l'avremmo mai detta se non era legata comunque al casino quindi non è in modo di airport mi do rompere il cazzo perché sono andato in portogallo cioè fa parte sempre dell'argomento che dici ci sta quindi se ci sta perché devo rinunciare alle mie gambe non capisco se stiamo d'accordo oh ma c'è pure lui il Lino Sonego me ne so accorto adesso io me ne so accorto subito grande Lino è anche il nostro stesso modello ma che logo c'ha aspetta c'ha la M sua ah si è vero l'avevo vista l'avevo vista sì 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 noi invece abbiamo il nostro nome si torna tutti a farsi i cazzi propri quello è il discorso no io non c'ho più voglia e più testa testa dietro a nessuno ma non devi stare dietro a nessuno alla prima parola che sento che non me va bene prendi e voli pop zero me ne frega zero il cazzo per quanto riguarda la tua chat puoi farlo la moderazione della tua chat è la tua discrezione puoi dirlo ma il risultato non sarà lo stesso ma poi dopo quello che ha detto per me proprio non può dire peggio capito ha detto la cosa peggiore che me se può dire quindi da un certo punto di vista è partito bene nel senso fai subito la cosa greve dopo dici la cosa peggiore che puoi dire poi tutto il resto è in discesa non sento niente Hunter non sento niente cioè non so se ti è chiaro io non voglio sentire un cazzo di nessuno non voglio sentire come hai reagito alla risposta di tu dubbi eh ma quale parlare forse sul casino ho il pensiero sul casino cioè non so se ti è chiaro io non voglio sentire un cazzo di nessuno non voglio sentire nessuno parlare a parte che è sparito quel messaggio in chat e se loro hanno la possibilità di dire quello che cazzo vogliono e stanno là voi nella mia chat no ok legittimo non solo nella stream loro nella stream mia comando io è l'unico che ha valenza cioè che ha potere decisionale sono io nella stream sì della realtà purtroppo no però vale per chiunque anche questo puoi ti senti in grado di dire quello che vuoi io ti dico no non puoi anche se ti sembra di dare un parere a me del parere tuo non me ne frega un cazzo un conto è che dici non me ne frega un cazzo che poi vabbè posso anche dirti non ci credo un conto è che dici che non posso o che non possiamo a priori no lì si sfocia un po' non puoi non posso chiaro e finisce là quindi se tu arrivi e dici una roba che a me non va bene e tu nel canale mio hai la tua idea il tuo pensiero vivi la tua vita e ti auguro buona fortuna ma nel canale mio no canale mio allora perché ci ha detto quelle cose cioè ha contraddetto tutto ciò che ha detto all'inizio e comunque anche il pensiero che ha appena espresso non possiamo però se lo facciamo gliene frega un cazzo ma non possiamo comunque capito adesso parla no perché diceva nel tuo canale quindi si riferiva a noi puoi dire quello che vuoi nella mia chat no però quello che dicono gli altri sugli altri canali possono farlo o non mi interessa scegli uno scegli un'opzione ma secondo me non deve neanche scegliere perché a prescindere da quello che vuole Marza parliamo di lui quando cazzo ci pare quindi mettiti l'anima in pace è quello che vi dicevo prima ragazzi quando mi va parlo di chi voglio come a te nessuno ti deve cagare il cazzo io invece voglio cagare il cazzo a tutti stiamo su due mondi completamente diversi guarda non vedo l'ora di riromperti il cazzo non vedo l'ora di ricagarti il cazzo questa è la verità voi parlate tanto ma siete la Barbara d'Ulso di Twitch però ti prego un minimo di creatività negli insulti ora Blur ora Blur sarà fiero di te no davvero un minimo di creatività ma proprio per contrastare la noia non per altro un minimo un pizzichino che ne so un Marco del Debbio si chiama Marco poi tra l'altro del Debbio si chiama Marco del Debbio me pare eh che ne so siete dritto e rovescio di Twitch no? che comunque per me è insulto peggiore siamo il Cerbero Podcast uno unico inimitabile che squali sta a derivare è l'O Croce è l'O è l'O e l'O è l'O Grazie a tutti.